Buonasera, l'Associazione Culturale Veneto Nostro è benvenuta e vi ringrazio per la vostra presenza che ne onora e che c'è un riconoscimento per il nostro lavoro. Siamo arrivati a terza serata di questo ciclo di conferenze storiche su quella che è la nostra storia. Stasera abbiamo l'amico Cesare Peris, che è uno studioso della Repubblica e della storia di Venezia, con il giusto spirito del ricercatore, che è veramente una persona appassionata, si avvicina ai temi della nostra città a 360 gradi, esecuratore di un interessantissimo sito che si chiama Venezia Museo, dove potrei trovare parte dei temi che vi è entrata stasera, molto ricco e molto completo. Fa parte anche della Società di Mutuo Soccorso Carpentieri e Calafati, che è una delle più antiche di Venezia, che si rifà ai confraterniti degli Arsenalotti, di chi che lavorava in Arsenal, confraternita nata sotto della Repubblica, società che all'epoca gli chiamava Scuole, un termine che non era quello che abbiamo adesso moderno, appunto il termine Scuola, ma Scuole, che nasceva proprio con lo scopo di diffondere valori di solidarietà e di mutuo soccorso fra le persone che aveva bisogno. Si occupava di orfani, si occupava di chi aveva infortuni sul lavoro, di chi che moriva del lavoro, di chi che moriva in guerra, per essere sempre al fianco delle persone più deboli e disegnate, dei valori fondanti di quello che c'era la nostra Repubblica. Valori che sarei attuassi me anche oggi, che dovremmo anche, appunto, grazie a queste serate, riappropriarsi, perché gli altri, come che ho sempre dito, guardiamo indrio per imparare, per andare meglio avanti. Vi ringrazio ancora della presenza e grazie a parola all'amico e relatore Cesare Peris. Grazie. Dunque, mi senti bene? Sì. Allora, pido subito una roba. O parlo veneziano o parlo italiano. Perché sono andato a Padova, o parlo veneziano e non ho capito niente. Allora, non parlo veneziano, perché si abitua a fare queste robe nella nostra lingua. Se però qualcuno capisce la cosa che dico, o dice magari con l'italiano, mi che fosse la traduzione simultanea, e così, diciamo tutti che sarà qui. Dunque, al momento vado a caldo, dunque, la materia che affrontiamo stasera è abbastanza complessa e, a dire la verità, per ognuno dei corpi della Repubblica che formava il governo, sarebbe da parlare in una giornata solo che di quello. Quindi, mi cercano di essere abbastanza sintetico, tanto da non fare per l'infettiva Bussola, e però non sarò tanto preciso, altrimenti stasera finimmo, siamo al maggior consiglio e non ho capito il tuo quanto. Ora, vediamo un foglio, che ci sta da, il foglio che da una Bussola, la Bussola orientale, in base a quello che mi vi conto, e che praticamente vi dimostra, e vi da una dimostrazione di cosa che c'era e a Repubblica, del Venezia, ai Fili. In tutte queste cariche, c'è con la chiusura del 1797, e la Repubblica si è presentata così. Naturalmente il foglio si esce dall'alto verso il basso, quindi si comincia dal maggior consiglio. Prima del maggior consiglio, però, facciamo un saltindio dei miei 200 anni, prima del maggior consiglio, che c'è un popolo che scampa dall'invasione di barbari, che arriva sull'unità della laguna e si rende conto che i barbari e i barchi non sa farli. Nella laguna vive già gente, via pescavoli e via salinei, quindi tutti i veneziani che dopo si lanciano a fare i veneziani, in realtà, come sappiamo tutti, non esiste propriamente un gene veneziano. Diciamo che Venezia è stata popolata da tutti i veneti, che scampando via davanti ai barbari si porta verso l'isola e comincia a popolarli e a ribere. Non c'era quindi gente che non sapeva o che non aveva conoscenza dei rapporti fra le persone, di vita sociale e politica. C'era gente che ha un discreto patrimonio che si porta via scappando da città già importanti, come c'era Padova, come c'era Altino, come c'era Quileia, quindi gente che ha già una conoscenza di questo e anche molto popolo. Questa folla enorme che si raggruppa dentro l'isola, per la luna adesso si è cambiata moltissimo, ma questo è un altro tema che affronteremo un'altra volta. Una volta andava da Grado fino a Capodargine, questa è la messa a vero, Capodargine è l'attuale Cavangere. Quindi tutta questa acqua salmastra ospita un popolo di persone, di gente che si comincia a interrogare su cosa fanno con che istituti siedemmo, come se che facciamo vivere insieme. Questo è un primo passo fondamentale che in realtà che avrete presente da adesso fino alla fine della Repubblica, che non nasse subito come che nasse gli altri comuni italiani, che che se i ricchi, i poveri, i pelli urbani, i contadini. Qua tutti vive nel stesso modo e difatti, a differenza di tutti i comuni italiani, i veneziani, che dà la possibilità di essere cittadini a tutti quei che si trova fra Grado e Capodargine. Certo, così è un problema che non bisogna trovarsi, già discutere insieme per chi che potrà essere, è il capo di questa comunità. All'inizio, quindi, c'è un'assemblea dove tutti si è pari. Non c'è il nobio che vota tre volte e è il povero che non può votare in base a povero o è il plebe che non può partecipare in base a plebe. Tutti partecipano. Naturalmente, con la capacità e la possibilità di sforzarsi all'interno della laguna per raggiungere l'isio più interno. Salto, il passaggio che ricorda Manuco, eccetera, e li porto subito verso il rialto. Tutto questo popolo, quindi, una volta l'anno, comunque, quando che mora il capo da Stato, che al momento non c'è ancora il Doge, non c'è ancora un incaricato da Bisanzio che controlla ancora da tutte le parti costiere dell'Italia, metti Longobardi controlla tutte le parti interne ma non va verso la costa perché i bisantini riva e fa strage. Dentro la laguna, quindi, Gesè, un capo che non riva i bisantini, Gesè è il capo di infatti dopo ti racconti cosa è Gesè e comincia una reazione tra i veneziani e il Bisanzio. Quando è andato il tempo, però, se siete voi, c'è molto questa forza del Bisanzio per poter andare sempre su esore per controllare questi italiani così o tali e questo popolo comincia a organizzarsi perché non si troviamo e si organizziamo andando segni alti in capo nostro. Nel 697 i veneziani o i veneti scampai da terraferma se la duna tutti a rialto o come ti dice la tradizione su la spiaggia di San Piero di Origo di San Piero di Castello e legge il primo doge Paolo Lucio di Anfesto Gesè 697 come viene letto sto doge il doge viene letto per l'acclamazione quindi si è pensabile che tutta sta folla che si va no, questo nome no, Amistate non poi altro dopo che fu la volla dice vabbè votiamo quello e si finia è abbastanza però pericolosa sta roba perché non vuol dire che c'è dei gruppi che si scontrano di potere molto forti fa meglio che cascai fa meglio che puoi comprare i voti di chi che non li ha e si divano a avere un capo che però non si è quasi mai l'espressione unanime quindi il doge non rappresenta tutti rappresenta la fascia più forte e questo è un problema perché perché i veneziani capiscono subito che se non sopravvive l'unità almeno l'unità di chi che si è al potere deve essere totale non può essere all'interno di chi che si è al potere divisione o critiche anche questo è un elemento che troveremo più avanti nella struttura burocratica e nella struttura pubblica di Venezia non esistano i partiti se proibbia le fazioni e se la per sempre proibbia la propaganda politica dopo che daremo un pochettino entrando ben in mezzo dentro le magistrature come che questo principio fosse assolutamente applicato senza eccezione alcuna neanche a quale doge e come che i veneziani inventa un momento di schizofrenia però i veneziani inventa il broglio il broglio che adesso avremmo se lo vuol dire deriva dai veneziani che camminano su e giù sul prato davanti e per segnare anche il potente di turno che i vuol vendere il voto si cae stona e si accusava sul brazzo e questo dove deriva già era pronto a vendere il voto dopo capiremo perché avendeva il voto quindi quindi questo primo doge che si trova ancora in condizioni di essere considerati considerandosi ancora quasi un re nei primi secoli della Repubblica tenta di passare più volte a forma dinastica via di capire che la Repubblica della Venezia fine a fine sarà l'unica Repubblica nel mondo con il suo tutti i stati generai tutti i stati generai imperatori tutti i stati quindi legge il doge ma dopo si comincia a capire che che vuole perché il doge possa esercitare effettivamente il suo potere che vuole che uno deve stare di sì è sempre così uno va al potere e uno può dire come si fa su applicarlo mi serve i direttori mi serve i dirigenti mi serve i impiegati ma non manca i direttori i dirigenti che entrano in materia quello che deve esercitare il potere deve deve legarlo perché non può sapere tutto a conoscer tutto a Venezia questo comincia a succedere quasi subito cioè se capisce che il doge ha tendenze quasi sempre deve doversi portare verso posizione di assolutismo e diciamo così l'assemblea comincia a segnare dei collaboratori che il doge non può rifiutare nel senso che gli dà perché gli è bravi gli è buoni di fare il suo lavoro e il doge si rende conto che solo attraverso questi gli può applicare la volontà del ducato pian pianco il tempo dopo la torna al mie prima che venne a fondare il comune questi consiglieri comincia ad avere un peso sempre maggiore quindi se si domanda come se che potevano trovare il modo per eleggerli regolarmente senza che che siano involte la lotta fratricide fra gli altri con fassione che fa guerra che si coppa e quindi che ne rende deboli di fronte a chi che si è esterno alla nostra Repubblica si comincia a fare quindi un consiglio più picco cioè se cava via dal dall'agora come si chiamava 480 elementi che non si è nobi ancora in realtà la Repubblica di Venezia diventerà esclusivo appannaggio della nobiltà esclusivo nel senso dell'esercizio politico ma non nel fatto del poter arrivare dopo vi spiegherò come chi venese ha interverta questa porta che sarà uno dei elementi che darà una stabilità politica del mio e cento anni durante il quale non si mai sta nessuna rivolta popolare contro il potere quindi i 480 persone brave persone prove persone che si è stimata a tutti essere in grado di poter eleggere un doge se forma quindi è il primo maggior consiglio comunque il consiglio del doge sarà maggiore dopo quando si è consiglieri più piccoli formare il consiglio minore nel senso piccoli che genera più di segno al doge ma il maggior consiglio quindi parte con 480 elementi questi 480 elementi con un sistema abbastanza rudimentale comincia a legge i doggi successivi quindi si forma all'interno della Repubblica un posto dove i più bravi anche quei che non sono ancora nobi o che non saranno mai nobi volessero giammai a scegliere chi è il capo d'estato ma mancava avanti il sistema del maggior consiglio quindi questo consiglio educale comincia a avvicinarsi a crisi dei comuni italiani ecco il comune veneziano si dice venne fondare nel 1171 ma quando venne fondare il comune nel 1171 una parte della nobiltà ha deciso che in un modo e in un altro per mantenere l'unità della nazione e quindi del popolo dovrà cambiare alcune robe e prima che deve assolutamente cambiare se quella che il doge non può considerarsi un monarca non può considerarsi un re e soprattutto avrà da considerarsi uno come statri quindi a di sopra ma tra pari tutti i nobili disuguali uno degli altri fra la doge nel 1181 quindi viene fondare il comune e i consiglieri del consiglio del 480 che comincia poi ad allargarsi nel numero comincia a dire al doge prima di essere eletto che ad affermare il documento altrimenti no il documento si chiama promissione educale e promissione educale c'è esattamente l'elenco delle robe che il doge si impegna a fare in quanto eletto capo dello Stato e si impegna a non far per non alterare i equilibri che si è all'interno di questo giovane Stato e facciamo però non si è quasi sempre tutto d'accordo quindi nel 1171 ho fatto la confondazione comune esame nel 1191 e ha tirato una prima promissione locale che si va del ricodandolo al doge che dopo mezzo volvo va a fare una piccola deviazione crociata e porta a depredare Costantino poi costantino poi costantino poi costantino che affiniamo con i bisantini e niente più da niente già in quel momento quindi al doge non va più nessuna libertà di fare quello che vuole tutto quello che io riesce a fare si dovuto al fatto di doversi rapportare col maggior consiglio e pian pian inizia a crescere vicino al famoso minor consiglio il minor consiglio si è fatto grossomodo di sia consiglieri e questi sia consiglieri inizia a parola per riscuotere tasse per le guerre servire la città in sei parti queste sei parti deve dare gravezza allo Stato ognuno dei sestieri esprime e questo per sempre fino a fine della Repubblica un consigliere ducale che deve stare vicino al doge ma vicino come una vittima se capire il termine il doge non può far più niente se non ascolta cosa pensi prima e sia consiglieri e dentro la serenissima signoria dopo che diventerà un minor consiglio il doge conta per uno e nel suo voto valono se stati sia consiglieri esecotrari non può far più niente questa roba venerà ulteriormente affinata fin tanto che come si usa a dire il doge diventerà il doge un palazzo il senatore in piazza cittadino nello Stato quindi fu la differenza il doge non contava niente di più che un piccolo che fosse a Caonobie mentre in palazzo contava come capo da Stato e come rappresentazione di venti della Repubblica non pochi problemi tutti i papi che avevano pochi problemi considerava quasi il doge come un emissario di San Marco intero il doge già era l'unico che manteniva il camauro che già era la cuffietta dell'ino bianca anche a dentro in cesa e partecipava ai riti dei preti da Dio Lettar il rito che veniva usata in basica San Marco fino al 1800 dopo che stavo io stavo in suo rito romano era un rito patriarchino e derivava direttamente appunto dal fatto di considerare il doge parte dell'eucaristia gli altri capiti che per il papa c'era un problema io si considerava Dio intera e l'altro mi sono san Marco intera questo perché è normale nel fatto di non essere scontrati con altre entità religiose ma anche molto politiche non che era il papa osservare una propria identità una propria autonomia specialmente religiosa quindi i veneziani gareva i so santi e ancora adesso i ghezi è segnati nel vede a Cesare San Rocco e a Cesare San Rocco gare i so santi i veneziani è stata fatta apposta per ricordare al papa che i veneziani muovendo poteva fare di manco tutti i stati i santi si teniva a San Marco e i so santi questo naturalmente con tutte le implicazioni che aveva nella porta tornando agli altri quindi già la struttura nel 1190 si è già formata nel sombrione il maggior consiglio elegge il doge il doge è circondato da questi sei consiglieri a questi sei consiglieri non deve rapportarsi continuamente non può fare niente se è un rinocchese che si è d'accordo verso il fine però nel 1190 verso il 1100 comincia la crisi profonda dei comuni italiani cosa succede? nei comuni italiani si forma un capitano del popolo che è quello che tiene appunto il ragione del popolo e che può essere il podestà che può essere un'altra figura che invece tiene il ragione dei borghesi di nobi però i comuni italiani si è tutti divisi fra nobi borghesi e il popolo e il popolo fuori dal mura non conta niente cioè se plebe è contadina che non ha neanche diritti all'interno del comune quindi completamente diversa i comuni in crisi si oppone il capitano del popolo e il podestà inizia un periodo di grande confusione di paura e la gente comincia a essere stanca di questa guerra domanda per pietà che vengono un uomo forte l'uomo forte c'è il duca c'è il marchese c'è il principe c'è il re che arriva mette posto e si porta via a cattare libertà mettiamo quei roba così comando a me e attiva da fare quello che dico a me benessiasi è l'unico comune in tutta italia che non serve questa strada quindi all'interno del comune venesiano che c'è già chiaro della nobiltà venesiana che c'è uno solo che comanda quindi i nobili venesiani che c'è Roma che non li fa implodere nella guerra e se c'hanno coscienza della sovranità io li sa deve essere parola dell'estato la sola che deve applicarlo è la sola che deve spiegare con il popolo certo è difficile spiegare al popolo che da quando l'omano non comanda più però a chi tempi non è che ti riesci a spiegarli più di tanto perché il popolo capisce il popolo capiva pan e capiva guerra se ti riesce la guerra e ti chieda di pan il popolo diceva non so ma è che tanto umano i nobi questo io intendo e io capisco è la forza e struttura del Stato quindi il maggior consiglio comincia a dilattarsi e dentro il maggior consiglio comincia a entrare non solo i persone nobi che possono entrare perché si è brave ma anche gente che si è borghese gente che si è anche del popolo ma se va del popolo delle cariche all'interno della Repubblica questo crea è una dilattazione enorme del maggior consiglio ma è il pericolo che pian pian tutti si sono diventati il maggior consiglio andando avanti di questa annada il maggior consiglio quindi con oggi comincia a ragionare sul fatto di bloccare definitivamente la possibilità che dentro questo consiglio possa arrivare chiunque siamo arrivati quindi al 1297 siamo già a parlare già del serato del maggior consiglio il maggior consiglio normalmente si è messa in due righe credo che la storia della Repubblica si è messa in cinque righe e che dopo si passa ai quali 50 anni e lui ci dice come stava qua nella cantonata la Repubblichetta in realtà nel mio 287 c'è il punto d'arrivo dove che a doge e a parte maggioritaria del consiglio più grande decide che approvata una legge potrà far parte al maggior consiglio solo i novi di cui l'avo Gabbia Vuo e Seggio nei tre anni precedenti oppure che a Gabbia Vuo in dirillo nel tempo almeno uno della famiglia che si è sta a partecipare al maggior consiglio segretaria quindi ogni possibilità a chi che non può entrare quindi segretaria a tutti che può entrare che può entrare solo il signo a questo questa caratura e improvvisamente quindi il maggior consiglio in maniera abbastanza soft perché il popolo non capisce forse cosa che succede e il maggior consiglio passa tutto e definitivamente nema dei nobi quindi la nobilità veneziana si possesse del potere politico e professa dal momento in poi il fatto che il potere politico che appartiene solamente che ha i nobi tutti i stati già fora adesso come se che vuole essere accettare una roba del genere ma non tanto del popolo ti ripeto già sarà contento di essere una repubblica dove che insomma è pace sociale ma soprattutto è guerre non già la prende con lo suo ma i borghesi doveva accettare una roba del genere e dir da un po' sono fora e pur se siamo ricchi a volte forse più dei nobi perché il titolo per entrare in maggior consiglio deve entrare in nobità ma non tutti i nobi che c'era ricchi ah sì che c'era nobi che c'era poveri ma io ho amato il nuovo al titolo della nobia come fa un borghese ad accettare il fatto che un nobi riesca comunque a avere il potere e io che sei più ricco del lui la nobi non avrà mai la possibilità di esercitare cariche pubbliche ecco questi sono i punti che se poco indagrai in realtà nella storia politica della repubblica però i benessiani rimedi in questo modo e anche questo è originale rispetto a qualunque altra struttura sociale di questo tipo in Europa nel mondo conosciuto in tutto il resto del mondo un nobi sposa una donna nobi e fa un fio nobi perfetto non so se si può sbagliare a Venezia un uomo nobi può sposare il fio di un borghese che non abbia fatto mai attività meccanica quindi che non abbia mai fatto attività manuale un borghese che fa commercio il fio che nasce è un nobi quindi hai di capire che nono che sia il borghese che dice a tutti che non ne vudo è un sereno che si maggiun consiglio ma soprattutto la storia di Veneziani che si è enorme già in quel tempo bisogna portare a donna all'interno della struttura del potere perché a donna conserva gli effetti del pare dice che è il pare che dice adesso vado in maggiun consiglio occupo tutti che non ne vudo quindi a donna diventa a donna venesiana diventa legame tra e a membratura sociale in questo sono molto nobi vi ricordo che per l'ultimo dose sposa una baierina non sposa una donna nobile perché proprio può farlo per l'ultimo dose sposa una baierina e l'ultimo dose sposa una cameriera quindi non era necessario sposarsi tra nobi se io faceva io faceva perché restava intatto al patrimonio ecco è stato il discorso che siccome che un fio solo doveva fare il patrimonio tutte le fie doveva fare monache di clausura questo generale nel medioevo genera anche a venesia ma per non disperdere è capitale della famiglia che dà il vestito quindi a donna all'interno della repubblica sposa una baierina e genera un fio a casinobie questo fio a casinobie deve essere dai avvocatori del comune che tiene il libro d'oro quindi l'elenco esatto di tutti quei che hanno diritto di essere diciamo nobi a venesia hanno presentito i marchesi duchi non esiste l'unico titolo che si può dare nobi a venesia è il nobilomo veneto tutti gli altri titoli marchesi duchi vengono dai altri re dai altri imperatori per glorificare personalità politiche importanti della repubblica ma si vietà a usare la venesia nei commedia di Goldoni se c'hanno illustrissimo no illustrissimo è al massimo però inizio al medioevo anche messier a dose messier al massimo non si può chiamare a dose principe ma sono gli altri ufficiari il serenissimo principe fa sapere principe ma in realtà non manda niente quindi nel maggior consiglio nasce questa consapevolezza politica e a donna veneziana fa questa unione che continuerà tutta la repubblica del collegamento fra corpi sociali che non sono mai tanto differenti neanche tanto distanti il popolo sta bene e quindi non ha tentativa e voglia di sovvertire gli ordini ma ha solamente voglia di copiare e di fare quello che i nobi fanno o quello che puoi fare quando veni per fare i nobi gli danno a mano come? anche su questo dovrei ricordare prima il nostro amico che è scuola che è scuola del mestiere che ha tutta la magistratura che è stata lì e che controlla la magistratura del mestiere dopo che si è magistratura di scuola grande che la prima si può parlare sia scuola grande della città che invece sia scuola grande si è incaricata della repubblica di fare assistenza sanitaria assistenza sociale e beneficenza però siccome è una roba molto importante è una roba molto pericolosa è rivolta di Cionpi a Firenze la gente che può parlare con il doge di Stavoma la repubblica cosa fa? sia scuola grande le mette sotto il controllo diretto del Consiglio di Dieci che ora se poi si ha poetica e controlla che scuola grande applica direttamente quello che la legge stabilisce così sarà grosso modo per tutte le arti il maggior consiglio quindi se è un'assemblea caotica evidentemente perché essere nobile non presuppone essere anche intelligente un'assemblea in cui però bisogna legiferare dove è stato da tenere in piedi e non so farse penso che il Senato nel mio si è sento nella stessa seduta parla di Corfu e dopo parla di Bergamo quindi nel stesso periodo di tempo affronta problemi completamente diversi e riesce anche a farlo perché riesce a farlo anche a bene senza ipod ipod, telefono, telefono, telefono e niente questo amministra un stato così enorme il maggior consiglio ha bisogno della struttura più come posso dire tecnica che gli dà la mano che quasi fa da pre-consultivo cioè che prepara quello che sarà la discussione in modo che dopo quando si porta la discussione il maggior consiglio questo vota se proposta che viene fatta si crea quindi a quarantia farò dei nomi che magari gli altri non conosce perché appunto questa storia non si è narrata come che doveria e a quarantia quindi si è 40 proprio lo dice il nome no 40 consiglieri il maggior consiglio molto versare in attività del governo quindi farà il bianco dello Stato ma farà anche un'ottima difesa della moneta il zecchino veneziano sarà una moneta pari al dollaro attuale tutto il mediterraneo sarà considerata moneta base per gli scambi commerciali per il semplice fatto che il bianco dello Stato rimanterà da quando aveva fatto il primo zecchino nel mio 300 fino alla fine della repubblica stesso peso e stesso titolo in oro quindi avere un zecchino in mano nel mio 310 e nel mio 797 e gli altri non viene a causare di nessun cambiamento del cavallo fiadeoro per abbassare al moneto no questo farà altri e altri re e altri imperatori che hanno problemi dei scheriti dovranno tirare via il fiadeoro dai scheriti i veneziani manterrà il titolo del zecchino uguale per tutta la durata della repubblica quindi quando aveva comprato un zecchino nel mio 300 lo poteva spendere ancora nel mio 700 perché era preciso stessa roba gli americani gli americani ancora risolvano la guerra di secessione non si sa che è tutta via come le altre e lo ritiene ancora il corso legale quindi usa continuamente così fa secessione è tutta una dei roba da dire per capire con che sistema con che alle unità quindi che aveva nel concepire lo Stato e la Repubblica venisse a non la costituzione scritta che non esiste una costituzione che dice che tutti gli uomini sono uguali non serve perché lo saremo usato tutti gli uomini sono felici lavoriamo direttamente felici come che l'americani e gli inglesi gli inglesi oggi non ha la costituzione quindi gli inglesi non mi interessa se vogliono essere liberi o uguali o da per scontato se li fai mani a carta ma di un'altra roba però attualmente come è stato moderno gli inglesi non hanno nessun bisogno di avere una costituzione come chiamano tutti i uomini e così non la dovevano neanche i veneziani questa garantia quindi che vi inda è ora più di sparare materie più delicate e comincia quel che sarà una costante in tutta la storia della Repubblica quando che un gruppo di persone comincia ad entrare troppo grande o troppo impegnata a perseguire certe attività del Stato che si ritiene molto delicate se ne crea un'altra il maggior consiglio a UNAS per dover far e dirigere lo Stato diventa troppo grande perché se tutti i nobili dentro quindi in ovvia c'era quasi 4.000 5.000 nel momento più beo dopo per piano va scemando finché si arriva a fine e quarantia quindi è votata per assolvere i carichi di Stato quando che quarantia comincia ad essere troppo piena di oro perché deve preparare il bilancio dello Stato deve fare ronfiare le attività del governo deve incontrare i ambasciatori eccetera il maggior consiglio non reputa decavarla cambiarla o ampliarla la sa e creerà il Senato quindi il Senato diventerà quello che genera la quarantia che a quel punto perde attività del governo che viene passare al Senato e diventa un tribunale d'appello penale così si trasforma e diventa un tribunale però fino alla fine della Repubblica aspettava sempre la quarantia criminale se ci ammala dopo la quarantia criminale preparare compilare il bilancio dello Stato questo perché tutte quante le attribuzioni che veniva a dare a singoli corpi dello Stato queste restavano e da qua indeseva i contemporanei che al tempo veneziani che confusione che lentezza con questi voti dove discutere per ore l'esercizio della democrazia se così o si disputa o si disputa se non si disputa però si è perso i veneziani discutendo dava sempre maggior importanza a due cose principalmente la capacità di amministrare e quindi una certa brevità della carica in modo che nessuno avesse il tempo di restare là anni 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 perché aveva qui nessuno quando c'era passato un anno i senatori scadevano tutti ogni anno al giorno di San Michele il 29 settembre permanece a Gera l'anno il giorno in cui tutte le cariche scadevano e dovevano essere rielette ragazzi vi immagino un senatoro che caga da tornare il maggior consiglio a cui fa parte perché proviene da quell'assemblea e deve convincere i consiglieri o comunque i nobili che sono il maggior consiglio di votarlo perché vogliono tornare nel senato ora siccome che il voto si è fatto a una testa a un voto o liga o si compra e che si è chi chi vende perché si è senatori che non potrà mai fare il senato perché non gli hai scade tutte quante cariche dello Stato si è sempre cariche non retribuite però questo non vuol dire che un senatore della Repubblica di Venezia non vede a tenere altro l'onore del Stato e quindi deve spendere di suo quando mi ha eletto l'ultimo doge Rodovico Manin la prima roba che fa che scrive un'intera su Fradeo Marco e che dice mi dispiace Fradeo che mi ha eletto doge perché mi rendo conto che qua i tanti patate hanno un ciappai ma e lo sapeva che è il suo fradeo che però mi risponde non si stacca a preoccupare Fradeo faremo frutto a questa spesa perché prima già era che Stato non passava n'era e questo è un terzo elemento che va a tenere presente i novi veneziani si identifica completamente nello Stato la sente come se fosse carne sua la sente come fosse roba sua e che in questa carne in questo corpo non è solo che ori ciò si è sta facendo siamo sovriniati tutti stati già fuori no sente parte integrante di questo paese di questa repubblica sente parte integrante del popolo che dice due non so se la cosa è scritta qua però non mi ricordo invece due passaggi che mi ha messo segnalo no non dice qua che si intende a ricordare proprio quello che genera la tensione fortissima dei governanti veneziani su sull'attività che si fa sulla politica in onore in onore il prenome conto anche del popolo e mi avevo trovata una che era molto bella ma non si trova ancora ma questo è un libro che non trovi non sto a guardare perché ho fatto non so fatto da sola copia su va bene comunque diceva questa parte è parte veneziana già legge la nostra parte e diceva non hanno dunque non hanno i maggiori nostri conosciuto altro modo che eliminare una magistratura una magistratura quando questa non riesce a fare quello per cui è stata creata perché stimavano stimavano che una ben ordinata repubblica chi governa deve tenere gli occhi fissi sul popolo e sui comodi suoi quindi uno stato che i nomi veneziani viveva nella propria carne ma che comprendeva già era fatto molto molto di più già era molto più articolata aveva un sacco di problemi a più veneziani poi rispondeva con molta forza perché ad esempio mi divarbo sempre molto strato qua perché è interessante che sta a Bassan dove viveva il Grotto d'Oliero e sta vissi anche su un posto prima di andare nel Grotto d'Oliero e vendeva un libro che parlava appunto del rapporto di viaggiera fra la comunità di Bassan e Venezia la signora che mi aveva venduto ha detto mi ricordo non lo sempre ma sai che niente non parlare di me tasse il signore passerà 150 anni no niente non parlare di me tasse perché già era un territorio dei confini e come veniva sui tedeschi che erano tutti quei che stavano da che parte in Germania e la Repubblica ancora riva avertire anche riva i tedeschi ma a parte questo sfogliando il libro che è anche abbastanza grosso per la comunità che sono noto abbastanza piccola si scopre che molto spesso i stessi produttori veneziani che arrivavano a Bassan che domandavano perché qui vicino gli erano una pari tasse cioè fare una pari tasse e vi dice lei è da Venezia no no dire che pari tasse tu ti puoi pari tasse anche i preti i preti pagavano il 10 magari e il papà dice ma perché pagano i cari altri serve per fermare i turchi sì ti vivi i gatti guà sì è ora e il papà dice in effetti che era da e ora si passava e lo si faceva ci appava i 4 o 5 e andava a Venezia perché si dava a Venezia questa è una roba che è interessante al porto del collegio si viseva cioè dove si riuniva al doge i consiglieri del consiglio minore e i saldi del consiglio del senato e già i ricevui personalmente quindi entrava dentro e risponeva nessun ragione i bassanesi va a Venezia torna in Drio e il consiglio dei 10 convoca il provveditore del Bassan e gli dice ma ne fa strano che non ti sappi che tutti i popoli che vive nei confini della Repubblica si è senti da tasse perché si è e lo è i primi che si è messi in pericolo dall'invasione che arriva e il provveditore si scusa al consiglio dei 10 torna a Bassan e si scusa a qualche comunità e si è capito che se la gente vive da Marte se la portiamo a quel periodo storico dove che tutto si è così minuzioso tutto si è così controlla che la Repubblica sa effettivamente ogni volta intervenire proprio per il comodo e il ben del popolo che vive in tutta la Repubblica non a caso dopo ritorniamo su un altro robo non a caso quando che Napoleone entra nel stato veneziano di sera noi famosi falò di San Marco dove il popolo si è venuto a San Marco non lo si è ai nobi locai che si è contenti che si è venuto a fare i veneziani torna a fare più valori lo si è al popolo il popolo si è a San Marco e fa il pire contro i francesi che mi si è capito benissimo non si è venuto per liberare il popolo si è venuto per depredare il popolo per venire il basquetto quindi abbiamo detto dopo la quarantia il maggior consiglio capisce che la quarantia non gli affamano avanti e crea il senato il senato all'inizio si chiama consiglio dei pregadi vi ha detto pregà cioè si riuniamo se ti puoi venire e c'è un comitato un po' più ristretto un'assemblea più ristretta che ha 60 senatori ordinari dopodiché per i veneziani c'è questo problema lo troviamo su tutte le magistrature quanta gente che può stare dentro un organismo tanto che che sia possibilità di diluire responsabilità ma che ne sia neanche tanti da essere intropi che dopo parla perché il problema è che il senato trattava di questione che riguardava uno stato che c'era ben pesante in tutta la storia tranne chi fa scuola però quasi tutti in Italia in Europa quando fanno fare i veneziani se pensi che venire se ne aveva 160 mili abitanti per tempo Roma ganneva 60 mili a metà zero preti quindi una città abbastanza importante con 2 milioni di persone che viveva in tutto stato e anche questo deve far capire cosa devo dire dopo una città in uno stato di queste dimensioni affrontare e anche a volte vinse contro i turchi che genera decina di milioni e che mandava gente a morire come è successata così capre da sacrificare e su questo la capacità dei veneziani che può sarà quella di tutti i popoli europei fino al medioevo della moderna di investire moltissimo nella ricerca i veneziani facevano la ricerca l'arsenal sia la più grande fabbrica pubblica in Europa e fa ricerca cosa che fa navi e basta fa ricerca fa artiglieria di ferro dopo scopri che di ferro non va bene perché si scala spesso cominci a fare ferro di bronzo gli fa la carne rigata e si ragiona anche che molte belle teste venivano nel senato e delle cose che combinavano i veneziani ecco perché ammellatura e perché in tutto quanto c'era un segreto cioè forse la depotenza militare della Venezia si fondava la capacità di ammiglia e testa un popolo turco che già era immenso a fronte della Repubblica così piccola quindi nel senato ritorniamo che c'era i 60 senatori già ciò poi i 60 però non si li sia tanti perché si comincia a ragionare e ora le commettiamo 60 altri c'era i 60 cominciamo in un'esonta quindi c'era i 60 senatori e i 60 di asonta però non si è ancora tanto cioè 120 non si è ancora tanto sufficiente e ora ti vede sul foglio cioè sinistra dopo i avvocatori del comune vede i sottopregati del primo loco i sottopregati del secondo loco i sottopregati del terzo loco poi i 60 di asonta e i 60 pregati i sottopregati con sé e tutto è magistratore che ha il compito di preparare uno che spera di diventare senatore e intanto però può partecipare ai lavori del senato perché i senatori dovessi informare tecnicamente non politicamente tecnicamente delle cose che hanno da decidere non era raro che dovevano discutere del laguna i senatori ciamassi e pescavoli che si dice che va sempre a pescare insieme a moco ciammi che ne spiega cosa che fa l'acqua cosa è successo per il bosco in fondo a Vicenza e al Ciappafogo ciamma tre quattro che io li sape cosa che fa quindi la necessità deve avere sempre e la capacità tecnica i veneziani sono i primi che fanno i disegni dei posti dove che quando chi arriva nelle città che si dà dedite i veneziani fanno subito e piante e prima piante i primi cattasti importanti che si è fatti nella nord Italia li fanno i veneziani perché perché quando i veneziani arrivavano nelle città che si dava dedite cosa facevano i locali tutti i beni comuni che si è i boschi i paschi eccetera e si testava allora e poi già la nuova proprietà dello Stato i veneziani subentrava come Stato e doveva che la roba restasse pubblica io domandavo i veneziani ma mostri me una carta che diceva che è tua e questi non eravano mai i veneziani passivano ma tutto questo bosco quasi è proprietà di San Marco si diceva quindi è proprietà dello Stato gli altri potevano usarlo ma secondo le regole che vedessimo gli altri come ad esempio quando i veneziani arrivavano su una città qualsiasi città perché gli altri che avevano ad esempio la quattro e l'iso a qualsiasi città che i veneziani o conquistava o che se dava in dedizione i veneziani gassava i suoi leggi gassava i suoi consigli e gassava i suoi statuti se ti tu hai far così se va funzionare vuol dire che il lavoro funziona bene però se non va bene e uno dice che vuole avere più giustizia è la peo se fa a Venezia secondo le nostre leggi questo capisca di una tutta una questione del rapporto fra potente locale e popolo perché il popolo se vede che il potente è locale dice una cosa che non si vede la vanta avvia a Venezia si dice vuole in colegio e spiega perché non si è giusto e capire i novi che si abituai a fare qualche volta a Venezia per i veneziani se vede ridotti a quel che i veneziani consideravano cittadini che si è un pregio se vuole nel fatto che tutti i veneziani tutti si erano precisi manca un forte limite perché i veneziani non ha mai avuto capacità di espander il proprio come posso dire la propria voia la propria capacità di considerare e terra che c'era sia in mare sia in terra come uno stato un vero stato i veneziani considerano Venezia che c'erano i veneziani chiamano Venezia e terra i veneziani considerano Venezia il centro di tutto tutti i stati tutti i stati benvenuti si adatta ai nostri leggi nostre ma la promozione che sono di trasformarli e farli diventare tutti i veneziani perché non sono nell'uso di Venezia quando che Napoleone entra ma quando che entra anche la lega di Cambria nel 1582 i veneziani si ritirano a Venezia come se salvare Venezia vuole salvare Stato e ha gente che resta in Drio non c'è chi che dice mi raccomando qua combattervi all'ultimo uomo da preoccupare no i veneziani dicono sempre ti scioglio dal patto di fedeltà vuol dire che quello che arriva a nuovo ti dice che ti dice ibero e così non ti distrugga niente perché l'importante è che avore che maniè e che non vissi a guerra questa è una scelta che magari può apparire della migliaccheria in realtà i veneziani non hanno nessuna intenzione di sacrificare le vite umane per un qualche ideale che secondo loro risideva solo a Venezia perché tutti potevano domandare di entrare dentro la logica della Venezia ma nessuno ce l'ha mai considerato così selvaggio da dover si trasformare in veneziani i veneziani avevano grande rispetto degli altri e di altre comunità e su questo rispetto basava il rapporto che avevano stati che avevano questo restare i veneziani e altre comunità si dicevano come in Delia e adesso dice che ma i veneziani non intendevano restare su posti che non fosse a solo Venezia e quindi questa mancanza che poi io dice è negativo e io dice è positivo negativo non si stai buoni a fare veramente un stato forte unitario come che farà i francesi per esempio e adesso a me tutti quanti farei guerra i veneziani non mandano nessuno in guerra anzi che dice come ti vuoi fare guerra però se ti paghi mandiamo un altro perché se ti vuoi fare l'artigiano e ti gai mangasi di oro come se vedi asimè che ti continui a produrre per l'estato perché se te perdemo ti perdemo un bagaglio di conoscenza che ne vuole anni per riprendere intanto come li devo e questa è la parte negativa è la parte positiva si chi veneziani in tutto il suo concetto che qualcuno si farà più recentemente come il suo è il federaismo il federaismo si può tutto il rispetto della tradizione dove ti va al contrario se c'è un imperialismo venio ti fanno che ti dico a me e non si discute quindi il senato già inventa lo stato federale tutte le comunità se ti andiamo a guardare a studiare tutte le comunità conserva esattamente i statuti e le regole e solo robe che aveva in prima istanza anche giustizia in appello però se va sempre a benessere quindi il senato che comincia ad avere una preponderanza sempre più forte la conquista preponderanza il senato perché diventa l'assemblea che strappa pian piano tutte le sue prerogative e quarantia e diventa il posto centrale dove si discute la politica e soprattutto il governo della repubblica il senato sarà definito da Marissa Nudo che è il diarista del XVI secolo la più bella testa la più bella testa della repubblica quindi più che un senato si potrebbe definire un governo però non è giusta questa definizione perché il senato come che dopo vede nel foglio aveva tre commission molto importanti cioè il senato stesso si rende conto a sua volta come vi ho detto prima di essere troppo grande troppo troppe persone perché i 60 della zonca i 60 senatori magistratura del sottoloco del deloco e altre magistrature ammesse porta il senato ad avere quasi 400 persone che discute su una stanza grande poco più di questa senza il microfono e discutere per ore ma per ore per giorni perché tutti puoi parlare quanto che vogliono e nessuno può creare varie parole però questo è un problema non ciò che bisogna votare perché i veneziani che ha sempre questa ansia di dover risolvere i problemi non farli marci quindi la necessità di votare porta al bisogno di avere un commission più agi che si trova in numero ristrettissimo e che prepara le leggi i senatori infatti non ha diritto a propor le leggi i senatori vota e basta si è commissione che prepara le leggi e le porta all'approvazione del senato e commissione si è insabi gli ordini insabi a terraferma e insabi del consiglio insabi del consiglio sono qui più importanti già ne sia perché sono più importanti perché insabi del consiglio si è proprio esattamente quello che l'inglese definisce il cancelliere dello scacchiere e cioè si è qui che prepara le leggi e che ha l'autorità massima di portarle in senato però anche insabi del consiglio che dura un anno questo è il problema da chi chi gara a fare responsabilità di dirige i lavori e i veneziani ho ritrodusso uno dei salvi del consiglio a Vinciamà senti sta qua salvio di settimana adesso dita così vi parlerà una roba cosa però salvio di settimana vuol dire che uno dei 6 salvi a rotazione 7 giorni fosseva capo del governo e tutti i stati 5 a rotazione lo sostituiva e non cambiava mai la linea politica quindi vero del conto della grandissima capacità non solo di stare insieme ma di avere tutti esattamente gli occhi fermi sull'obiettivo che gara sempre quello e non gara modo di essere differenti o di avere proposte che non gara quei che tutti si aveva discusso quindi il salvio di settimana che gara il capo del cancere dello scacchiere non solo il capo del governo cui che prepara quindi i provvedimenti cambia ogni settimana e ogni settimana quindi un abbassiatore che andasse a parlare che il salvio del consiglio si trova di fronte a una persona diversa lui magari parlava con uno dopo la settimana con l'altro e lì e così e finché si completava il giro si ricominciava un'altra volta questi salvio del consiglio il salvio di settimana era anche quello che rispondeva in collegio il collegio è proprio l'apice della Repubblica perché da una parte il maggior consiglio fa il minore consiglio che dopo diventa serenissima signoria e rimane la presidenza di tutti i consigli ma è l'umanazione del maggior consiglio da quest'altra parte il senato crea la consulta dei salvi e siccome che non può essere che dopo essi perché chi chiede il preminente c'è comunque il minore consiglio si forma il piencoeggio che è il più basso che vedete sul vostro foglio nella serenissima signoria e la consulta dei salvi forma il piencoeggio nel piencoeggio però la presidenza rispetto all'oggi è i sei consiglieri ma il lavoro rispetto è la consulta dei salvi questo vuol dire che quando che qualche duma entrava e si diceva a Venezia ai porti del coelgio quindi in paio suo locale veniva ricevuto se rivolgeva entrando al dojo che già era sentato in mezzo e che diceva serenissimo principe paghiamo massa tasse non me ne podemos più via che ne sbassa e il dojo non parlava perché non poteva parlare si girava e parlava e salva una settimana che rispondeva noi tasse già ripariamo perché paga tutti ma come fanno il dojo c'è Dagnatis è lei che parla come mai noi vi spiegava perché il dojo rappresenta Stato e qua rappresenta Repubblica chi che rappresenta invece tutta la responsabilità politica di dirigere Repubblica da salvo da settimana questo vuoi farà sorridere però fa ancora più ridere quando chi parla chi che non sa il dojo come andava tassera e con il dojo non contava niente anche molto spesso le riunioni erano lunghissime abbiamo detto prima le materie frontali già erano disparatissime molto più sul dojo già quando sono più che era in età molto avanzata e se vede nel 1500 l'età media di greco che c'era in Europa era 18 20 37 20 18 anni e il dojo ne aveva 82 non che noi avesse oggi più giovani perché a Venezia se già considerai speranze della pubblica speranze della politica a 50 anni quando che morono dopo 9 a 50 anni tornò a giocosti di Giacomo perso un giovane che aveva dei grandi capacità a 50 anni non era difficile trovare i consigli più importanti vecchi di 80 anni 70 anni ma non era che c'era una gerontocrazia che si mette i vecchi perché li capisse e i vecchi capiva quando che l'ingazza si ritirava ma il problema era che nella Repubblica di Venezia era vietato rifiutare la carica così che uno potesse dire coeghi non mi sento per fare il dojo posso rifiutare ho gemato coeghi non mi sento per fare la consiglia di Giese posso fare il manco no non si poteva rifiutare se ti stavi mai sì ma fin l'ultimo respiro tuo doveva essere da sacrificare per la Stato guardate il dojo il dojo Foscari di cui conoscere sta l'unico destituito l'unico si è l'unico destituito io diciamo che si intravvivete legalmente aveva un'età venerata ma sta qui a portare al Stato veneziano su ampia espansione di terraferma che avevano quattro fioi tre fioi di un mondo e peste e uno da cui Shakespeare ha tratto il famoso dramma i due Foscari uno viene accusa di avere rapporti con nobi esteri una roba gravissima dell'essere perché vuol dire che ti devi parlare con nobi esteri o di roba dello Stato e viene confinata a Creta Cadia il doge che è uno dei più potenti che la bomba che abbia avuto non può fare altro che andare verso la nave dove il suo fio parte per l'esilio e che ha anche incoraggiato ad andare via precedentemente quando il mio che mora è il terzo fio per peste il mio domanda è fatto inconsueto di abbandonare il passo del cal e poter assistere il fio che non deve morire dopo tre giorni che Foscari si è a casa sua dal fio che mora che arriva l'avvocatore del comune e che dice il doge fa male che si passa tre giorni che non ti sei più in passo del cal e fa diciamo col fio che mora e fa lo capire ma è tua vita appartiene a Repubblica il fio morirà e ti tirato nel passo del cal e il doge si è alza e il fio mio vuole andare a me c'è quindi fin l'ultimo respiro deve essere già per lo Stato e anche i doge più forti più potenti più grosse personalità della Repubblica deve accettare questo principio deve accettare questo principio nessun può scampare quindi non si è fuori tutta la carica quindi è doveroso servire allo Stato e si vinculca ai poteri ai poteri finché da 18 anni da 18 anni poi un obbio è provato e entra il maggior consiglio e gli dà delle cariche e si sperimenta se essere bravo se essere capace se può fare l'ambasciatore se può fare quello che può fare e col tempo maturerà e capirà fortemente conservatrice e dinamica però perché tutti dicono che i veneziani erano conservatori in realtà i veneziani erano conservatori dinamici cioè diceva se la roba funziona adesso possiamo che cambiarla ma non possiamo desmettere quando che funzionava e quindi a cambiare in meglio ma ricordandosi che aveva fatto quei primadeniati che probabilmente tanto ha tolto non ti fa andare a fare avventura i dispositivi della legge veneziana come quei inglesi che si è precisi parte sempre dicendo nel mio 200 ti avremmo scuartare nel mio 400 ti avremmo cambiare ti avremmo impicare nel mio 700 ti avremmo andare in esilio nel mio E basta cambia tutto ti avrebbero gli inglesi fanno stessa roba quando chi ha pestaliere che ha un rapporto con il principe sanna se non serve la storia ma i giudici inglesi che seguono il stesso sistema veneziano proprio se pensasi questa nel mio 200 si è uno scuartare poi dimenticare adesso che sarei si era adesso questo non è più un reato ma richiama sempre quel che si è prima e io raccomando che i veneziani cominciava a leggere e scriveva sempre non hanno i progenitori nostri avuto alcun riguardo barabim barabum barabà barabà seguiva tutto il dispositivo l'anderà parte cioè deve essere proprio che e veniva detto cosa e infine cosa che succedeva a chi che sgarava semplice se è che adesso non c'è da dire visto il coma 17b s'articolo se no così sei così fermo e questo quindi da una produzione legislativa che si è enorme adesso si è frari l'archivio d'estate c'era prima in palacio ducale in palacio ducale avendo una produzione legislativa che c'era nei più svariati campi nei più svariati settori dove chi i veneziani metteva a mano doveva sempre per forza mette in ordine ragioniamo sul fatto che dirò una struttura di questo tipo quindi un senato che deve amministrare un governo un maggior consiglio che rinnova sempre le cariche che deve votare che c'era un apparato burocratico che c'era enorme un apparato burocratico che c'era cancelleria locale che era un sacco di gente che lavorava e che c'era quel che veramente conosceva i libri doveva scritta leggi perché i nobi cambiava continuamente quindi quando i nobi diceva ma sta roba qua se vuoi farlo o no adesso sentivo partiva il segretario andava su di soffita tirava fuori il libro girava e rubrica sebbene si ha i primi nel mondo con lo suo che ha i rubrici e leggi doveva scritto i codici quindi comincia a ragionare e riscontra ma si è molto sul commercio ma si è una roba unica questa è una grandissima capacità se vedete che voi presente cosa che vuol dire adesso leggere una legge italiana che ha tutte le sue robe e che vi rimanda 70 norme diverse per cui uno si domanda ma il senato quando gli approva una legge ma lui che dopo vada a scriverla che non è senatore ma se ne andiamo conto di cosa per andare a attaccarci per arrivare dopo neanche a dire qualche sia legge solo il nome ti dà la legge i 20spt pensiamo anche al tempo cosa vuol dire avere una struttura burocratica di questo tipo che Gavro riusciva in miei 100 anni a tenere vivo così vivo e così potente un apparato per cui cioè era necessario conoscere dove c'era la legge perché nella legge dopo tutti già erano precisi quindi tutti i nobi sapevano che una legge già era scritta ma solo l'apparato burocratico sapevano dove c'era la legge già scritta perché immagino se fassessi milioni di copie uno o due libri al massimo e quelli stavano i libri di legge dopo si trascriveva se serviva la copia ma il libro c'era uno ma c'era miera dei libri una gita all'archivio del Stato per poter illuminare su qualche produzione normativa del Stato venese ho tutto questo quindi molto molto in sintesi maggior consiglio tutte quante magistratura che operava in tutti i settori per quei veneziani ogni settore che mi taccava che taccava una magistratura che mi con pazienza perché ho proprio fatto questo lavoro che mi dava fastidio agli altri libri che mi diceva non so facciamo una magistratura a caso ecco sopprastanti allora l'argento cotto vedi ti rimanda a 37 enciclopedie l'amico cominciava a fare questo lavoro nell'85 quindi sono invecciato praticamente questo lavoro alla fine continua fuori a 37 pagine che sono l'indice di tutti gli uffici che lo trovava che lo catalogava e che adesso posso dire cosa gli faceva e come che già inserì però rende conto quindi che la struttura che già era politica e burocratica che stava a dire a 35 pagine di magistratura che faceva tutto e aveva un sacco di gente che lavorava dentro un sacco di nobi che si giravano le cariche e questi nobi doveva essere fedeli la fedeltà a Samarco e a Repubblica doveva essere totale e questo è un problema il problema in tutta è democrazia il problema della fedeltà e istituzione diceva i veneziani che il migliore amico della Repubblica può diventare il suo peggior nemico se conosce tutti quanti i modi per farla saltare e questo è una roba che tutti i stati affrontano dopo Venezia perché prima i stati non si domandavano cosa si dovesse fare e Venezia affronta questa questione già nel mio 300 diese perché è una forma democratica un'aristocrazia ma è pubblica aristocratica che si è già matura nel mio 400 e quindi da qualcuno suo perché può essere i danni che può derivare perché c'è dei danni collaterali che può derivare del fatto che l'Assemblea Repubblica discuta del tutto se un po' discutiamo del Papa uno degli altri va a dire al Papa che siamo discusso e il Papa sa cosa che facciamo qua quindi il compito nostro è di dire quanti denianti disposti a tradire Repubblica Venezia quindi e proprio per questa question che riguarda la fedeltà dei nobili con fronti del Stato istituisce il Consiglio dei Dieci quindi dall'apparato politico e tecnico passiamo verso l'apparato che è quello che controlla il Consiglio dei Dieci vive della fama che si è meritata perché quando che Napoleone arriva a Venezia ha detto è soprattutto l'unica Repubblica che ha preso in Europa non tocco neanche a lei e neanche un imperatore che veste notoriamente votata la legalità e l'ubaglianza vado a Venezia perché si è pieni di schei vado a fare campagna di guerra ho bisogno di schei vado là ed esco la Repubblica come se che giustifico questa roba pensa pensa ma è un'altra come si è un'altra politica un sistema politico che fa paura perché si è in pochi dopo mi avevo il Consiglio dei Dieci che si è cattivissimo mi ricordo il povero Forneretto ecco non si è mai esistito mi ricordo i Piombi diceva tre persone quando si arriva ai francesi perché i Veneziani diceva che legge si legge quando si riesce applicarla subito e si immediatamente efficace assare la gente in galera a 20 anni e non essere legge quando arriva Napoleone basta si aprono le carceri e ne fu la tre uno aveva rubato un paio uno già l'amato è stato che pensa sta in galera e dopo diceva bene la chiesa del povero Forneretto che non si è vero che si piombi che non si è vero neanche a quello e ora che si inquisitori d'estato è inquisitori d'estato questa è una roba che mi voglio più tre morti inquisitori d'estato con gli ultimi tre inquisitori d'estato quando arriva Napoleone a Venezia vi incarcerai a San Giorgio e che vendito vi sarà coppai per chi si è forse il peso diviso al mondo mentre invece il consiglio di dirci fa da poesia politica ma fa da poesia politica non tanto verso il popolo ma verso i stessi nobi è questo che non vi capio quando si parla di queste forme di controllo d'estato i nobi generalmente evoluti nel fatto di capire cosa che genera fare politica e cosa che vuol dire poter disfare un stato che se mettessi stessi sotto il controllo della magistratura votata da loro quindi il consiglio di dirci fa poesia politica e vigila che in tutto il paese in tutta la nazione in tutto lo stato e lo fa tramite in spie e tramite tutte quante le sue relazioni lo fa in modo che nessuno adesso vi ho dato una parte una legge che è stata votata il consiglio di dirci nel 1664 e dice il proemio che nessuno ardisca di parlare contro la forma del governo né contro le pubbliche deliberazioni meno detraere individualmente di pubbliche persone e trovando se alcuno vi contravenga si intende in corso nel delitto di lesa maestà che nessuno ardisca di parlare contro la forma del governo perché se uno che parla della forma del governo qui dice il maggior consiglio che i veneziani definisse sempre il padrone della repubblica e quindi se cadesca una forma del governo diversa la decida il maggior consiglio nel contro le pubbliche deliberazioni le pubbliche deliberazioni quando che una legge si è votata va applicata non si può stare a dire non a me piace meno di tutto questo comunque e a parte più significative meno detraere individualmente di pubbliche persone che vuol dire che nessuno può parlare male di un coega che ha fatto non è tutto per approvarne lezze e nessuno può parlare male di un coega che si di svolgere un ruolo istituzionale nessuno può attaccare un senatore può attaccare un consigliere quando che parla neanche al doge neanche al doge quando che che già è in senato questa cronaca quando che in senato un senatore fa un intervento che al doge non le piaceva al doge a un certo punto l'avvocatore di comunica se l'avvocatore dello stato si asce in pie va vicino al doge che dice queste parole che si riportava nella cronaca piaccia al serenissimo doge tacere e sedere e lasciare che il senatore compia il suo ufficio e il doge se senta non parla più perché il lavoro di comunica dice che comunque che sia doge non vese permesso neanche aiuto di interrompere la persona se questa parla nei materi del stato e per il venere pubblica che si dà per ascoltare tanto genera il doge tenere in considerazione quando va genera vivo ma se non che genera nei consigli perché genera mezzo gli avori andavano avanti lo stesso che quando che moriva il suo se ne diceva cameriere entrava nella sala del coeggio davanti al consiglio il mio consiglio quindi la serenissima signoria e che diceva che per l'onor del mio ufficio sono qua a consegnare e c'avele a cassa e il sigillo del doge che veniva spezzato come mi sembra colpato stessa roba veniva spezzato il sigillo e c'avele a cassa perché il doge si è morto e il più vecchio dei sia consiglieri ducali che da quel momento diventava vice doge pronunciava queste parole avevo inteso la morte del serenissimo principe di tanta pietà e bontà però ne faremo un altro quindi è morto non muore repubblica è morto il doge la repubblica è viva da quel momento il vice doge diventava il consigliere più anziano e per tutta il periodo di eseque fino al nuovo nuovo doge tutti vestiva del luto e la serenissima signoria restava vestita del rosso scaplato non si metteva del luto perché già era morto doge ma la repubblica già era viva su questo modo di agire che quindi dice non si è morto si è morta persona ma non è carica che si è ancora viva e adesso è la presa di temoni altri gli altri che aveva stessa plastica profiburazione un famoso dito è morto il re e viva il re non si è soluzione con continuità è morto il re e viva il re non si è spasso il politico dove uno può mettersi in mezzo e dire non faccio il mio re no è morto il re e viva il re gli inglesi diceva esattamente così veniziani diceva è morto però e ne facciamo subito un altro il stesso fatto di avere quindi una repubblica così grande da amministrare è una posso dire una necessità del controarsi fra le ori molto forte porta a dei innesti fra magistratura perché tutti doveva sapere e doveva sapere tutti e essere contro ai e quindi controarsi uno o l'altro ad esempio inquisitori di Stato non è tra i nobi messi a eletti dal consiglio dei dieci dove questi inquisitori di Stato proviene dal consiglio dei dieci e quindi per l'accordo della tonaca dei dieci si è detti i neri uno invece proviene da essere una signoria che per l'accordo della tonaca si è detto il rosso il rosso e i neri si mette insieme e deve inquisire prima di tutto sul fatto dei nobi che vada in giro a contare cosa che succede negli uffici infatti il nome principale di inquisitori di Stato se inquisitori sola la propalazione dei segreti di Stato quindi il suo compito è quello di vigiare sul fatto che non che sia persone che vada in giro a raccontare o informare il Papa altri nobi e le stranieri su cose che si discute nei consigli naturalmente la vigianza si basa con le tue denunce e denunce che però non vede tutte in considerazione se queste non si firmare quei che si firmai detrute in considerazione e si cerca di istruire un processo con tutta una serie di garanzie eccetera eccetera non stavo qua a dirla però per esempio mentre i inquisitori di Stato gasta proprio questa funzione che non si vada in giro a raccontare a raccontare storie delle cose che nasce nei consigli al Consiglio di dieci datano se dieci ma che si dieci propriamente detti gese è a serenissima signoria e si è consigli di yukai gese doge e soprattutto che si è un avvocatore di comune l'avvocatore di comune è l'avvocato dello Stato che deve stare attento deve vagliare che ogni atto fatto dai dieci sia conforme a legge se l'atto dei dieci non si è conforme a legge volete che si accarmisse ingiustamente dove non si prove e un interviene e può portare il problema in maggior consiglio e bloccare immediatamente cosa che con i dieci si deve fare che si deve contare che i dieci copava massava uccideva ingannava e non c'era così dopo di che quando i dieci raggiungeva un verdetto questo andava trascritto nei libri in chichese ancora si chiamano in raspe dove chi dice appunto diceva perché sta fatto questo perché sta fatto quello siamo arrivati a questa sentenza se la sentenza di venestiani viene fuori con un voto solo un voto non fa giudizio quindi veniva assolto se vissi leggere un'animità era già l'ha fatto bene e la necessità dei venestiani di aver di lui responsabilità all'interno di un gruppo più o meno numeroso veda anche al dato del fatto per cui i unici che lavoravano su ufficio singolarmente genera gli avvocatori del comune genera 3 ogni avvocatore rappresentava il suo ufficio e all'interno del maggior consiglio all'interno del senato all'interno di tutti gli organismi dove loro già rappresenti poteva intervenire e dire no questo non va bene se rimetteremo il consiglio superiore e al fine se arrivava sempre il maggior consiglio allora decida se l'avuto che aveva detto una roba giusta o se aveva ragione il consiglio che aveva la prova quello l'ultima roba proprio così il comune genera incastratuto avevamo detto che all'inizio quarentia che dopo diventare la quarantia criminale si è formato le altre due quarantie di 8 mesi ciascuna per cui 8, 16, 24 una carica dava diritto a 24 mesi di ufficio e aveva tre capi questi tre capi importanti perché già la quarantia criminale già era visti quasi in contrasto con il minor consiglio che già era l'unico ufficio del presidenza da quanta l'organo della Repubblica e quindi cosa fa quello maggior consiglio non elimina i tre capi della quarantia ma li fonde e li porta dentro la serenissima signoria quindi la serenissima signoria che se sei consiglieri educali si è che sono tra i tre capi dei 40 però siccome i tre capi dei 40 se capi di quarantia che se 4 8 120 persone che ruota ogni 8 mesi non si è che permette di dare il consiglio dei 10 perché troppo grandos a giro troppe persone che sa cosa che si fa nel consiglio dei 10 e inese esclusi diciamo che grosso modo questo è il questo è il sistema così come è per ordinare adesso dover entrare nei dettagli di ogni HOD di una di questi grandi organi spendere un sacco di tempo vabbè gli altri saprei benissimo come mi ha letto oggi non ho leggero attacca serie di elettori eletti non so se vale appena che vi ricordo però è interessante che non funzionava quindi la procedura di elezione da oggi era questo tutti gli elettori del maggior consiglio quindi tutti i presentanti del maggior consiglio quel giorno doveva estrarre metteva non so di 500 metteva dei altissimi bacili in modo che uno dovesse pescare per mano senza vedere rimetteva 30 pallotte dorate a benessere ancora il detto tira pescare il bar d'oro nel senso che ti chiamava fortuna perché tira sulla bar che è quella giusta tutti passava sul bacile e tirava sul bar qui che tirava su i 30 bar d'oro formava un gruppo a sé questi 30 andava su un'altra stanza che è benessere chiamata la stanza del scrutinio che si parte quella del maggior consiglio e dentro un altro bacile pescava 9 pallotte d'oro i 9 veniva a portare su un'altra stanza e questi 9 doveva fare il nome di 40 persone e ogni nome doveva avere la maggioranza questi 40 con un minimo dei 7 questi 40 veniva a Baltai e veniva a portare il numero a Dodese questi Dodese doveva scegliere altri 25 con maggioranza delle 8 e di questi 25 doveva tornare a 9 questi 9 doveva scegliere i nomi dei 45 che doveva essere il portai con 7 voti massimo e da 45 che ne sceglieva un desa questi un desa e leggeva 41 questi 41 si riuniva e decideva il doge ecco se questo aveva il parco complesso i venesiani riuscivano comunque a fare in modo che il doge fosse il culo che voleva loro queste altre e tutte le storie che nasce nel momento in cui il doge viene letto i venesiani creavano intanto la procedura che sia importante intanto deve essere l'uomo migliore nel posto migliore e c'è proprio qualche colettivo come sempre non è che ti possi dopo tanto affidarsi al caso anche in questo momento i venesiani pur con tutto il suo po' di roba su eso su eso gli riusciva molto spesso a far doge chi che voleva avere e quando gli eletti gli ultimi 41 se riuniva gela come conclave del papa si attiva il presente del conclave papale lo stesso per i venesiani adesso non so chi va a metà per preghi però è proprio così di stasera la sua stanza e porte veniva veniva a sparare molto spesso uno di 41 da dove che il doge non doveva nasce dai 41 potrà essere chiunque ad esempio si racconta che le lezioni di Pasquale Ciccone nel mio 5 sento si avvenia perché perché uno sa faccia la finestra che ha visto un veccio che andava colpando i carcerati che avevano fatto il doge e quello quasi il veccio abbastanza ci siamo messi d'accordo e volta dopo qualcuno che era serai così stava oppure quando vi ha fatto Foscari il doge che parlavamo prima che era molto giovane perché mi ha fatto il doge per quasi 30 anni si è molto giovane sono 50 anni che aveva e si era distinto subito perché faceva e branda ai consiglieri più anziani preparato il pagli riccio e io ho votato questa questione del broglio però è importante per un sistema politico come quello che diceva benessiano era importante perché il broglio permetteva a chi che aveva l'ambizione politica di avere anche una memoria molto corta e permetteva anche di cementificare di tenere unì a fratellori una società una categoria molto ristretta 2000-2500 persone che già c'è mai a gestire il Stato e quindi nel consapevole di essere rigidi nelle lingue di essere perfetti nelle procedure molto spesso si rischiava di perdere persone che avevano grande capacità ecco il broglio serviva a mettere a posto certi come posso dire giudizi affrettati su chi che dopo deve stare ad oggi quando chi che sarà il doge che perde l'isola l'isola di Candia adesso non ricordo il canone adesso poter se no Morosini bravo sì quando anche Morosini perde l'isola di Candia torna a Venezia e praticamente quasi crocifigiano ma come ti caccia il duo l'isola ma è incredibile questa roba ti fai già 20 anni che andavate a guerra non si ne poteva più dopo di che lui riparte e va a conquistare magari in maniera effimera il pelle il peoponese e cosa succede? torna in patria e fa doge mi sono state smettegate a cessione decreta nel peta decreta e vada un'ora a Repubblica un'altra volta io l'ho eletto doge invece quando mi ha fatto l'ultimo doge Ludovico Manin uno dei appartenenti e famiglia più antica della città ha detto il doge Manin dal cuore piccinino a se stretto le man a se nato furlando questo dava l'idea che il primo doge che non aveva discendenza diretta all'interno della città lo voleva portare a fine della Repubblica e in effetti a fine arriva un pochettino perché il sistema commerciale le mentalità commerciali di Veneziani non aveva mai previsto ne poteva accettare il fatto che la città fosse bombardata ed ha stata per una certa purtroppo una certa fiacchessa che non va ad essere imputata a Ludovico Manin perché anche questo sono i limiti che aveva statati non si è che Ludovico Manin piangesse e poi ne è coppa tutti e se aveva reso conto non si è resta solo che tutti i stati nuovi che fin prima aveva sostenito e aveva sostenito cariche cominciava a sentire l'aria diversa cominciava a sentire in modo diverso e il doge resta da solo e riunirsi perché si è una consulta nera che non è una consulta abusiva ma una consulta nera perché i ex sabbi che io chiamo a consiglio che ha toga nera perché non si è più i sabbi del consiglio che toga che mi si è già a BIOA io chiamo a consulta nera e io usava proprio il doge che quando ti schiavone non mi ricordo di spara in piazza San Marco per salvare la Repubblica e per darmi l'ultima volta usando l'ultimo giovane Repubblica un potere che il doge aveva da sempre dopo miei cento anni usa lo stesso potere manda una parte ai voti la sua parte perché il doge pur se non aveva mai fatto che già la consentiva a presentare leggi in qualunque consiglio senza passare per il filtro del penco legio e presenta appunto la parte di autoscioglie della Repubblica perché ormai non si riaffa più ma Nobio non si ha fatto dal punto di vista militare o dal punto di vista economico proprio il nervoso è cambiato come dice quando finisse questa storia dice tolta la collazza che lo ha sostenuto per così tanti secoli il veneziano non riesce più a piegarsi ma si spezza il Nobio non riesce più a tenere in pie uno stato che considerava suo che aveva un sacco di gente ma da qui l'amministrazione era una pesantesa unica insomma perché dopo non si è che sia non si è che fosse grandi sempre sempre grandi test quindi è una grossa difficoltà a mantenere Repubblica sempre viva i posti non si era sempre quei l'agente era sempre quella non si era mai non so se questa storia mi ricordo delle cose è sempre quelli cambia mai non mai casa però è stato è stato definito ecco su questo magari non si è proprio proprio così come che vi racconta nel senso che non sei che tutti i nobili venestiani che ha detto va bene devono casa non fanno niente una parte importante della nobiltà venestiana qui più giovane specialmente tentava di far entrare il maggior consiglio ai nobi di terraferma quindi portare dentro anche i nobi e quindi creare un consenso ma soprattutto invocava di imbracciare Arvi e andare a combattere Napoleone che per quello che sapremo dopo ma la storia non si fa quei secoli ma i francesi arrivai a Venezia stanchi morti fatta una marcia se riesimo a mandare 200 schiavoni e Gabriele Tagliaia Tocchettini che mi ha fatto con Liberatore d'Italia al Forte Sant'Andrea e possibilmente a storia avremo un altro svolgimento però come si diceva se questa grazie bene tanto ringraziamo Cesare sempre della sua disponibilità verso la nostra associazione della sua disponibilità di portare la conoscenza a quante più persone possibili nella nostra grande storia se qualcuno dà delle domande gli altri dedichiamo sempre fine serata un po' di dibattito o qualche domanda di precisazione Buonasera in termini magistrati diciamo adesso abbiamo un valore diverso per il governo come compiti come capacità posso dire questo? Sì sì dunque strutturalmente la separazione di poteri la fa la inventa Montesquieu quindi dice che c'è una norma esecutiva una norma legislativa e una norma giudiziaria e Venezia non aveva questa definizione per cui anche il maggior consiglio quindi in un'assemblea enorme aveva poteri del giudice anche il senato aveva poteri del giudice qualsiasi magistratura proprio se c'è una magistratura veneziana aveva per il suo tipo di controllo di salve e acque di comprare la luna aveva il potere tecnico di dirigere e scavo del canale il potere legislativo di decidere cose che succedeva se uno faceva o tagliava un'argine e il potere giudiziario di giudicarlo e quindi condannarlo i veneziani sapevano che questa questione non funzionava tanto bene nel senso che se ogni magistratura quindi ogni ufficio che avessero possibilità di continuare all'infinito a fare sentenze il problema dopo c'era che i veneziani conoscono e non conosciamo niente adesso proprio perché nell'essere garantisti molto troppo garantisti dopo c'è un problema cioè che non seguiva mai il giudizio e i veneziani vivono questa roba molto male ma molto male perché nel lettere continuamente che arriva anche da Stato i cittadini proprio sei anni hanno fatto che sia troppo tempo e per i veneziani due anni senza sentenza hanno già lasciato troppo tempo e quindi da una parte si trova la difficoltà di avere una struttura di magistratura che praticamente copre tutto l'arco non sono giudici tutti i giudici dall'altra questa produzione normativa e questa continua sentenza provoca dei ritardi che verso 700 o 200 gradi infatti i veneziani sono i primi che si domanda se c'è il caso di fare un codice un codice per le leggi del cd e un codice per le leggi penali si comincia anche a fare le raccolte specialmente che c'è all'archivio del Stato che c'è la raccolta sulle leggi penali che è stata pubblicata anche in fotostatica e però dopo arriva il fine della Repubblica però diciamo così che ogni ufficio tranne quei minori ogni ufficio però che aveva capacità nel suo specifico intervento competenza di intervenire anche come giudice dopo che già il sistema di appelli il sistema di appelli va pian pian incigantendosi perché il Stato diventa sempre più grado e si mantenerà sempre una differenza fondamentale tra Venezia e il Dogado cioè scusami tra lo Stato e il Dogado un pochettino come che c'è con gli americani che c'è Washington che c'è dentro distrito di Columbia che non c'è in un Stato a sé e a sua parte della città ecco è stato già era stato a Venezia c'era nel Dogado e il Dogado non aveva nessun contatto con l'estate dello Stato che già diviso in provincia dopo da terra e da mare però in ogni parte ecco per invece cercarle di dare uniformità almeno a giudizio capire che era abbastanza difficile specie per il fatto di Venezia e rispettabili statuti locali quindi le leggi c'era diverse anche da città a città siamo andati in giro ogni tanto dei provveditori che avevano il compito di dare udienza e appello perché dopo i Veneziani perché il popolo dice almeno posso di Venezia spendere scape o di appello perché o bagno o vengono a fare l'appello preferisci abbandonare la causa per i Veneziani abbandonare la causa c'era una roba incredibile perché uno ha diritto a avere giustizia e se un suddito a tutti i Veneziani abbandonare la causa questa cosa non funziona non possiamo accettarlo e lui mandava a loro in giro provveditori a fare corti d'appello e che riformava anche non solo i giudizi del primo grado ma anche quindi i provveditori i Veneziani stessi che secondo loro potevano anche sbagliare secondo il reggio i Veneziani però che tipo di sentenze c'erano? sentenze pecuniarie? ah beh sentenze c'erano di tutti i tipi i Veneziani traduziono anche di livelli quindi che come già sono nel nostro ordinamento quindi i sentenzi andavano dalla sentenza pecuniaria alla sentenza corporale quindi con impiccagione fatta in una maniera per cui dovesse restare ben presso nella mente delle persone cosa che succede però dopo anche sta questo qua nel fatto di dover copare una persona perché ha copato anche l'un i Veneziani che ragionano sola quando si accorge per il popolo quando si va a vedere una persona che mora e questo succedeva anche dopo nella rivoluzione francese non si è che va contritto ha paura non mi capita mi ride scontento che piace si si copine l'altro e i Veneziani capisse che questa question della giustizia va di questa maniera se non si è proprio robe eclatanti quindi squartare perché ti picchiamo tutto e squartiamo preferiva sempre negare c'era la gente che negava sotto questo sistema se deve negare le persone i Veneziani che aveva anche il santo ufficio quindi vi ricordo gli autodaffè che passano in Spagna i loghi delle decine di persone che era considerata estremi eccetera eccetera ecco i Veneziani con il papa che diceva che qua aveva anche il santo ufficio che aveva il frate dominicano che aveva da decidere sui casi di eresia però i Veneziani al papa che diceva si facciamo questo ufficio dell'eresia però nell'ufficio lo mettiamo anche tra i senatori nostri che si è bravi nelle materie religiose e come si sa di chi i Veneziani non ha mai avuto durante la sua storia i cardinali i Veneziani che aveva solo i vescovi perché il cardinale si è il principe della chiesa e a Venezia principi non veneggera ne ha caldoce figurareci se i Veneziani potranno accettare un cardinale con cui dopo avevano problemi dei rapporti politici quindi i Veneziani che aveva solo i vescovi i vescovi dovevano essere eletti dal senato e dopo andavano a Roma a fare a prova se veramente già era nella dottrina con questa roba qua quindi per la questione del santo ufficio questi tre senatori partecipavano ai lavori del frate dominicano io portavo a una doveva giudicare però se appena uno dei senatori si ne accorgeva che il frate già fa un'altra roba che non sembrava niente con l'eresia oppure che sotto sotto che già erano fatto le vendette personali trasversali bastava che uno dei senatori si alzasse e lasse fuori da porta già la fine l'ugenza quindi al fine i Veneziani e questo in tutto lo Stato perché non era solo Venezia già proibito in tutto lo Stato dei miei 590 casi i grandi dichiara da par 37 i condanni di cui 7 già morte e 3 in contumacia quei 7 che vengono a morire i porta in canale e i nega quei piedi a piedi perché il problema vero non c'era questo perché i preti vanno a giudicare tutti i pobresi ebrei a quel tempo purtroppo c'era ancora visti come che ha fatto che ha ucciso Cristo i Veneziani invece al Santo Uffizio è la possibilità di giudicare tutti tranne gli ebrei e quindi i dominicani avevano chiesto di che buona frega mesomato ce ne manca materia e i Veneziani non lo permetteva perché con gli ebrei i veneziani che avevano rapporti economici e gli ebrei erano nel ghetto il ghetto che era famosa banco dei beni e stato venezian era in debita per milioni con gli ebrei e quindi se copriamo i ebrei trovo i schemi per fare i ebrei non troviamo più ho detuto tanto perché avevamo un'idea una delle cose che sta in città che definivano tutti i britani italiani probabilmente lo farono la civiltà Venezia sventa il debito pubblico perché prima il debito aveva il re quindi il re andava a domandare gli ebrei schemi e dopo magari non fossero come stato occupati quanti i cavalieri della terra santa perché aveva schemi e aveva compato tutti schemi italiani cioè venezia non è possibile perché non si indebitava il doge si indebitava lo stato i veneziani introduzono il concetto del debito pubblico e introduzono così bene che per ammortare il debito pubblico ragionando da un'era veramente diversa destina alcune tasse solo per rimborsare gli schemi e al fine fa il monte vecchio il monte nuovo il monte nuovissimo col monte nuovissimo i veneziani a fine del 60 non ha più un'era del debito pubblico e sarà quello che permette ai nuovi veneziani che si trova pieni di schemi ma anche rimuoveva perché preferiva salvi a stato e avere una reddita a dove investire gli schemi dove? in tutte quante ville che riescono al Veneto in Lombardia in Friuli che non sei villa dove ti ti va per fare la pesca o rilassare per avere le proprie industrie agricole che veneziani trasporta la canapa dal Marmero a qua e prova a farla e trasporta il tabacco e prova a farla e fa il legge sulla bonifica lo vivo che già era poesine e fa il legge sulla bonifica sull'etratto che traduzza le mie 500 quindi che è stata la bonifica se fosse due volte più del vantaggio del danno che si dà ai proprietari delle tele e dopo di che per fare la bonifica si vota secondo un peso cioè se mi dico 40 ettari voto per 40 ettari se ti dà un campetto ti voto per un campetto quando mi arriva Napoleone secondo che tutti siamo uguali che c'è la stra legge che dà tutto il stesso voto però se metti nella normativa della comunità europea la comunità europea riprende esattamente questo concetto però i bensani fanno le mie 500 e la comunità europea le mie 900 è in mezzo questo napoleone che mette l'ultimo altro posto c'è tutti i settori che i bensani mette mangi diversi e quando che le mie 430 i bensani produce il concetto sconosciuto a tutti del brevetto c'è chi dice ti ha fatto un'invenzione si boh era per 20 anni nessun può copiartela e si te copia ti mette le unioni ti ripusiamo tutto cioè capisci che tu ti va a Venezia perché dice qualsiasi roba che invento è commerciale per 20 anni intanto questo lo avevo messo scherzo ora e i bensani difendere il brevetto ecco perché molte dimensioni è il carattere che tutti quanti conoscevi come Times New Roman detto anche corsivo italiano si è fatto a Venezia è il libro tascabile nelle quartine che ti stampi in foglio te lo prendi in 4 te lo prendi in 4 te lo prendi in 4 c'è un'invenzione veneziana che si dettaglia non solo le capacità di portare il libro come già era un libretto così è tipo l'esito manca una questione di spagnare perché questo commerciale è sempre pregno e quindi è necessario fare robe bene fare le qualità Venezia vive su questo tutto il resto del Stato diventa all'avanguardia dell'agricoltura perché se vengono a Vesopoli che si è attaccata c'è un posto dove si comincia a parlare dell'autarchia quindi l'industria del Veneto e l'industria agricola del Veneto subisce un'accelerazione enorme più capitale i venesiani però vedi il fatto che i nuovi venesiani che non sei lichi da terra ma sei lichi del censo quindi i baroni i gaskei i stupidi è il più stupido di venesiani che è venesiani nella sua casa che aveva raccolto dei quadri ma quando che un venesiano va a Treviso e si mette a bagnare e si mette a bagnare e si mette a bagnare che porta la scultura che si è fatta un leon di buro e venesiani si chiede già che è bello sto leon che ti ha mangi un tocco e dice io vado sta roba e ciò si fa il nostro garanzo e cosina e chiede già una canova e fa ste robe e dice a mio e dire a mio suo papà perché dove venesiano con me canova diventa così scultore perché il suo papà non sa guarda già così bravo e vado venesiani che fai scultura di buro parca miseria quindi la capacità di riconoscere il genio degli altri e portarlo a vantaggio suo e a Galeazza adesso si può poter ria parlare per loro ho fatto un libro ho fatto un libro e a Galeazza che si è perché a lei ha fatto scompigge i turchi che per prima volta mette i canoni anche lateralmente i turchi levanti spara dritti dopo i passemo e copriamo tutti quando gli passa in parte spara ancora e a Galeazza c'è il fondamento per cui dopo inglesi olandesi inventa Galeone e mentre inglesi olandesi continuano a dire in mezzo a fare il Galeone perché se manco costo i veneziani vengono a scrivitare i sabbi dal costo il problema è che il Pevari ad arrivare a Venezia in un mese da oggi e se non vengono a vento non arriva più i veneziani non solo in venta dai basi per il Galeone ma io rifiuto perché ha bisogno di arrivare presto che ne sento le robe che ti può essere anche qui è più stupido il Pirone il Pirone io vede i costanti nobbi io porto in Italia e tutti ho cosa sbagliare se non lo usa per maniare tutti i vedi ho cosa per ciappare e bagna i recini i recini delle donne che ne sento le robe a voi lo stacquare ti ne trovo in mente che ti voglio perché già era proprio un posto dove si sperimentava dicevo prima 150.000 persone in 2 milioni di popolo non potevano diventare così forti se non c'era libertà del pensiero Venezia aveva tutte le regioni ma in tutto il Stato c'era più i grigioni stessi c'era venesiani perché c'era che da tutta parte copava tutti gli ebrei stava a Venezia i protestanti gli albanesi tutti qualsiasi regione perché nella fecondità di stare insieme con idee diverse ma c'era capacità e quindi il commercio e quindi tutte le comunità stavano insieme e forse arriva in esse anno rispetto a tutto la cosa adesso se che uno arrivava a Venezia arrivava in un Stato Veneto doveva uniformarsi non fosse che volevo io però che avevano sistemi diversi e tu portavano a ragione quindi che già era una voglio dire le sognate a Venezia che se vogliono morire siamo 50.000 abitanti quindi fra 20 anni probabilmente non c'era più nessun e farà il parco di Disneyland non c'è il problema che viene a gente nuova perché gli altri non sono mai stai altro che gente nuova che veniva a vivere il problema è che vi è gente che non sa niente di quello che facciamo e non vuole imparare un Bangladesh non ti farà mai una regata in Caolina e perderemo la cultura daremo un Russo che si veniva 12 anni fa si veniva giudecca adesso sono uno dei più bravi di giudecca a insegnare i granci e faremo ike questo non ve ne siamo ormai si ve ne siamo perché parla con gli altri e capisce se che la granci si morì che ho poi già da buttarlo via questo è il terribio non è il fatto che la gente cambia si mescoli un po' venissi a sé non mescoli un po' è il fatto che non ti capisci la gente che non capisci la tradizione no odio non è che dopo non resta il paese la tradizione no non ti capisci se di affrontare un tema che è diverso però ne sarà la guardia della tradizione tra mandare questa mi andavo a pescare come io mio figlio non mi ha visto una rire quindi se pensavi che il figlio del mio figlio non sa neanche cosa che vuol dire peste e va tutto a venti che c'è il petrolio 8 o 20 e non c'è un giorno che ti andava a pescare non fai l'erede ti morde fame questo è il senso della tradizione non sei dove per forza mantenere in vita robe che non serve no l'acqua corrente zebea il gas zebeo il petrolio zebeo però vive secondo una metà età diversa questo dove venese salvato non sei che nessuno devo fare a pianto perché venese a moro perché tanto è una roba che inerudina quello che mi ha veramente fastidio che ha speso 2 miliardi 3 miliardi di mose e non serve niente a quello che d'un'altra e poi se solo per ponte ma proprio concettualmente sei il mose perché ti do difendere la città dall'acquata benissimo e tutto va a finire non sei più nei feri ma mi riallaggio un attimo al fatto che la repubblica non toccava mai la natura non toccava mai l'assetto idrogeologico della luna per cui anche quando certe navi pescava troppo e bisognava farle scavalcare una secca che si formava soprattutto ai bocchi del porto dove c'era solo 2 metri di acqua i venestiani decideva di non scavare nel canale per inalterare il flusso della marea ma sollevava la nave e qua ce ne sarebbe spiegare un piccolo inciso che potevamo fare concettualmente è decursivo chi mi conta che a Venezia è della qualità o che a Venezia sprofonda perché tutto quanto va sotto ecco uno deve farci due domande uno da quanto a Venezia sprofonda da tanti anni era il ponte di rialto già era 25 metri più alto cioè ho fatto le mie 500 se le mie 500 adesso non si sprofonda di 20 cm quanto alto c'era la ponte di rialto non non pare che non stai qui oppure il colone del palo 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 no è il contrario è il contrario se gli altri mettano la mano dentro un bicella quando è fuori non è il bicella che è piccolo se che l'acqua entra troppo velocemente perché la laguna ha perso tutti i fondali e siccome che la laguna entra in inundazione non può entrare marea perché se entra marea se c'è mamma quando che ti ti ha fatto sprofondare tutta la laguna per fare il canale di petroio che mi ricordo si è quasi 20 metri di canale verso una laguna che è mediamente su un metro di mare e quando che scavi un canaetto quando sei in tico di fare il canaetto quando che sogarvi con la sabbia quando scavi il canale perché si perisce sempre più che ti scavi più le spolle si sbarga e più diventa profondo ma diventa sempre più largo così c'è la laguna e ora hai scelta non sei cosa di fare il mose perché se è necessario fermarla qua altra il mose non se ne dica il mose ha dei bei spazi fra l'apparatoio e quest'altra per cui se vedi vedi quando il mose funziona fra l'apparatoio e per l'apparatoio casca una goccia dell'acqua e poi il mose è solo necessario a frenare il mar che entra e prima come gira e cioè prima gira diversamente se questa c'è la laguna e questo c'è il mare ma rega ad entrare quando che arriva l'acqua comincia a crescere entra per il pianero e ora che arriva fino a fondo comincia a calare se vedi già guarda però e poi scegare lì sta del verde si cresceva di un metro cioè credo bene l'acqua entra di più ma se ti metti il mone entro un bicerno non sei bicerno diventa piccolo quindi il mose è solo l'unica 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 non si salva a Venezia il mose sai da salvare il porto quando chi mi dice che il porto di Marghella si è finito e fa il mose dice non c'erano i scherzi perché non ti puoi fare un porto mi do se morire e fare il mose per salvare a Venezia per salvare a Venezia basta che il canale si intera e quando che il canale si intera l'acqua fa fatica entrare e quando che l'acqua più l'acqua fa fatica entrare questa fotografia che resta lì a buca aperta a vedere cosa che ha già di Barena negli anni 60 e cosa che vuole più adesso io c'è un regattante famoso non so se lo conoscesse c'è un regattante che ha fatto un santo di regatta storica che quando che vuole trovare la peste anche se parliamo di queste cose a me conta sempre perché a volte a casare in Barena che ha andato a Busi Lago sai cosa c'è Busi Lago c'è Buso tutti gli stili e ti va sotto fin qua se ti senti il pesco e ti senti il pesco e ti senti il pesco e ti senti il pesco a volte che aveva la pategala a volte anche al pesce perché il pategala ne va dentro magari al pesce e mi contava c'è Busi Lago vado in questo buso vado sotto vado sotto poi neanche cosa c'è sento la testa la testa la tira fuora la salto età così la casa sono tornata dopo 5 anni e non c'è neanche a Barena ce lo sono riuscito neanche a smontare l'intera con l'acqua bassa che c'era già un metro e mezzo di acqua quando che si dice che adesso non mi capisco come potrebbe essere anche la nave però quando che si dice che i navi passeggeri non vanno ad entrare a Venezia neanche sono consente non sono mica stupidi che questo sia una roba enorme quanto riguarda l'economia no? però se i dati ti rendi conto di cosa che muove la nave e non si deve parlare che tocca il fondo si deve parlare che una volta che la nave passa butta l'acqua in parte perché è incomprimibile l'acqua non potrebbe mettere in scatola butta l'acqua in parte quando è passata l'acqua torna dentro e gratta via tutta questa sabbia di sospensione resta la sabita resta il sospeso e ti apporti fuori in mano e ne torna più perché i fiumi non si è più la Venezia i fiumi sono tutti fuori quindi come se una mano ogni volta portassi via a sabbia così fa da quando mi ha fatto il Porto Margheria adesso quella nave passa davanti al basso Ducati che dimensione ma ti rendi conto di che pressione che fa su tutte e quante cose però prima di rendi conto di questo magari non sono neanche a preparare e si è comprensibile ma rendi conto di quanti schemi che paga il governo quanto schemi parli come popolo italiano perché vi mettiamo posteriva che dopo siete un'altra volta domandevi quanti schemi di tasse che vi buttai via perché vi conto che vada a passare in alto per fare schemi perché una è scelta di una o voi Venezia o una voi non esiste Venezia che è 35 metri del fondo del Porto perché Venezia è in realtà quando c'era 10 9 8 metri di acqua adesso Venezia 35 non mi rendi conto 20 metri d'acqua davanti passo d'un carro quando arriva non mi senti vede davanti preso ma è rimasta fatta così sai perché si è fatta così perché quando mi accade i primi due rodi di ferro perché va a margina arriva il snadrio e quando si è tagliato sotto acqua senza nessuno deve sento la quantità di terra per assar che al posto arriva che non vengono su città così cosa dice qui da porta va bene si è rotto e li fermo se li sposti quando voglio fare su casa ce la rifaremo il pericolo è più di tutto la salute perché in voltata del canale come si dice con la giudecca si deve formarsi una blusa che si deve attraverso i 30 metri rischiamo a svegliarsi una mattina non che sia più la salute magari ci siamo potuti di via ecco vedi se dobbiamo intervenire prima escano adesso i responsabili è indignitoso in un paese tutte cassa e tutte ma eccetera però tutti sappiamo che il pericolo è i 47 metri farò l'occhetta esatto 47 metri di buzo è così si capisce il fatto del mose è trovato qua se aggara entrare è il mar che non entra dentro e se esiste questa acqua è alta perché non avendo il mar nessuno più che lo contrasta entra e va fuori velocemente se l'ultimo vi faccio un esempio abbastanza stupido a me che ho fatto con altri materiali ma lo faccio per capire se l'ultimo era una lavatrice vicino a Marghera con l'acqua cara ero due anni non arriva fino a lì perché l'etica vede a capire che l'acqua non è che si muove solo sopra c'è una massa che si muove 25 metri di acqua che va verso il mare e non trova davanti niente e anche quando entra c'è questa roba adesso dirà perché nel 66 che ha fatto acqua alta? certo che ha fatto acqua alta sì ma perché mi ha acqua per due giorni? prima la quarta avesse venia c'era Firenze sotto acqua Roma che aveva il termine che aveva partuta c'è questo gemme se venessero buono ma dopo non è andata su e tornava l'altra volta cresse e un metro e novanta dentro ma c'era tre metri fuori c'era tre metri che pestava sui dighe e un metro e novanta e un metro e novanta e un metro e novanta e dentro ma si entrava tutto il mare di tre metri ma chi si che contava con altri era in tar l'acqua perché il monte serve era in tar l'acqua e tanto si è così stupidi perché lo vede da sui non che sia che aveva studiato ma come il senato che ascoltava i pescavoli gli si è così stupidi che aveva fatto i soldi del Mose fisse che li poneva più a scavare i canali per cui adesso come ho visto Sky 9 per fare il porto fuori altri miliardi per fare il porto fuori di Venezia per seguire l'idea dei volpi che quando aveva il barchetto in la Vente era così grande di far ammarchare il porto e ci si è in accordo con il Mose e i prossimi lagri non potrebbero entrare non potrebbero entrare e mi domanda scherzo ora per fare il porto fuori e l'altra domanda è che lo scelta ma sono il senso prima che lo porto fuori non c'era meglio e sapevo che si interessa tutto non con l'aspetto di scherzo Mose non c'era meglio che fa fuori fare dove che ti vuoi ma farlo fuori al porto dove fanno non può essere una laguna non c'è una roba che resta fissa o c'è acqua o c'è terra o c'è mare o c'è terra tenere la laguna in Venezia quella giustamente io mi dice sapevo che vi senti a San Roma che c'è un canale che si chiama scomincer scomincer vuol dire scominciamo scominciamo vuol dire cominciamo iniziamo bisogna fare un canale prova a farlo se dopo l'acqua lo incontra resta ma se l'acqua non lo incontra ti può scavarlo quanto che ti vuoi così terra sempre se vi atti adeggo sull'acqua bassa San Secondo che c'è il canale che fa dal canareggio fino a San Giuliano che costeggia praticamente con passi a buona libertà che c'è il canaleggio scava tutti gli anni e continua a interarsi e ti dici vabbè continua a interarsi che c'è lavoro per la gente e si ma figa si intera c'è sabbia delle ballene che va sotto e ti tira il rota e dà le mie ballene a capri adesso ti dà le mie ballene a sotto fin qua ma con l'acqua si passa però questo è il dramma e la città queste cose che soffri quando ti anche così acqua alta che passa ai navi come è successo l'ultima acqua alta che si passa ai navi e devi crociare su una via ciao ciao per sé cosa che fa l'onda quando si è abituato a battere sulla riva e arriva semplicemente preparata a battere sul muro della casa a battere sul muro della cesta del samarco a battere sul muro del palazzo del caldo che danni puoi portare perché non si riflette mai su queste cose perché non si riflette mai se diciamo sempre schede al popolo potremmo che io quindi non segui qua per andare fuori al forzandolo nella luna qualsiasi parte che piantavi a remo che fossi in bagno per andare a ro o a bisacchi per andare a bisacchi per i 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 bisacchi è l'ultima acqua una desena di anni fa è il 1.300 ma a base che io sa perché non so che io dico mi stai rove fa solo l'eretico è il stesso consorzio di Venezia 9 per esempio che a fine se ha tutta la cartografia di Venezia dal 1.500 adesso che per loro aveva fatto e aveva messo il settore se ti vedi dal 1.500 perché c'era l'iso e ti va adesso non vuoi più niente ma ti spari i canali quando ti metti i balenai 9 e quando ti metti i balenai 9 come chi conta chi fa per ripristinare la balena 9 adesso fa tutto quello che c'è sotto e capta i granzi i pesi poi muor tutti soffegati perché io butto sull'autometri del fango la che ne si cura e si cura e si cura i granzi che si sposta dal piano perché se si butta il fango la granzi non mette anni per tornare il fango la granzi se non c'è un lavoro che dura per sempre come ho detto prima non ricordo sempre la laguna se uno c'è un lavoro di tenere la laguna è una protesta dopo fa certe figure però c'è un lavoro per sempre una volta che trattiamo un palo e 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 un palo però scavarsi una laguna che è un metro di mare un canale di 25 a 30 metri e dopo fare anche i festini perché gli hanno permesso di scavare di più e finché sono qua che vi parlo e vi dico che si vogliono morire tutti il porto dove scavare nel canale di petrolio e slagarlo da 60 a 100 metri e scavarlo a 30 se non si rende conto da 60 a 100 e scavarlo a 30 perché è necessario che arriva sempre più navi è necessario se non ci appare sempre più scherzi è necessario avere sempre navi può dire che si fa una mareggiata come quella del 1966 e arriva fin qua a Mujam il volume d'acqua che entra sarebbe qualcosa di biblico e nel 1966 si è andata anche a me fra virgolette perché tra i componenti che forma la marea una genera negativa la marea astronomica per cui è già stata fatta tutta dalla bassissima pressione e dal forte vento del cielo se si risultava anche la marea astronomica che le qui adai una molto probabilmente forse adesso non so che si mani a capire di contarsi beh Mestre adesso mi lo so l'orgogliano effettivamente però Mestre è tutta sotto il livello del mare si rega a tutti perché pompe idrogone non riesce a succiare a viottare l'acqua per esempio per esempio però a parte questo la città della Venezia ha dei problemi di sopravvivenza che ripetono i dettagli dal fatto che il mar è cattivo o che il tempo è malvagio è sempre stato così non l'intervento non l'hanno fatto niente se non l'abbiamo che ha devastato tutto e oltre a devastare tutto devo farlo pagare che credo che sia il massimo del soddisfacimento no? spaccare da casa e dopo dire anche che adesso è tutto posto e pagare questo mi proprio non posso sottolinearlo che vengono a disfartuto come domanda che a Skype per fare altre domande va bene signore se non c'è altre domande pronti o giovane scuole grandi si c'erano anche del 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 perro altro no scuole grandi no cioè in pari in confusione del genere si dunque l'organizzazione del lavoro a Venese che aveva circa 400 si chiamava scuole piccole e c'era il scuole che regolpava i vari avori no? il problema di Venese era che tutti dovesse avvolare e nessun potesse essere senza fare niente a Venese c'era proibito a vendicare e quindi tutti dovevano avere un lavoro non si poteva stare per però che tutti siano un lavoro dobbiamo frasciolarlo in modo che c'era il carpintiere che passi dalla nave il calafato che metterà la stoppa e il peguotto dove passare la pegua tre mestieri per fare una barca le scuole grandi a Venese aveva proprio questo compito che lo ricordo prima importantissimo di sostenere i bisogni di carità e di beneficenza all'interno della città tanto che nella scuola grande poteva scriversi indifferentemente nobi e popolari già esclusi in tutte le scuole e in tutte le cariche anche del stato che avevo detto per misi e ore ma probabilmente non per gli altri già esclusi assolutamente i preti quindi gli ecclesiastici a Venese stavano lì già tornarono a mille nessun prete poteva fare nessuna attività tipo ne poteva scriversi a una scuola e ne poteva ambire nessuna carica politica quindi anche scuole dovevano essere estremamente laiche nonche ne avesse un salto nonche da sincesa nonche la città a Venese era da 140 cese fatto anche perché Venese non aveva come tutta l'Italia non aveva semiterre quindi mentre Napoleone arriva i veneziani che si dovevano ai cese ma i cese avevano questa funzione nel semitero né invece e scuole all'esterno della città quindi nello stato questo era in pronta in maniera diversa come dicevo prima i veneziani si formavano a Venese e tutte le altre istituzioni anche di carità che esisteva nel stato più che altro della terraferma erano tutte in pronta a una maggiore autonomia perché appunto avendo un statuto che permetteva un'attività diversa i veneziani rispettavano fin tanto che questa attività non fosse contro stato siccome che nessuno si metteva contro stato perché era pregnante l'idea del provveditor non so se Vicenza aveva delle scuole del provveditor venesiano che vigiava queste cose dopo che rifacessero rifacessero carità un altro discorso diciamo che però normalmente il fenomeno delle scuole grandi e piccole come diceva a Venesia non è così ripetua né così visibile né altre città di terraferma e normalmente anzi diciamo così che nel livello di vita medio all'infuori della capitale già a volte molto basso molto basso molto basso tanto che per esempio quando i veneziani cominciano a fare ville e quindi cominciano il bisogno di gente che deve lavorare perché i terreni enormi che si lavora tanto i veneziani introduce per primi con grande scandalo dei preti e dei nobi l'uso di tante carni ai contadini e quando chi fa presente ai novi veneziani ma scusati che la carne è un po' se si lavagna pulita e fai le vacanze non so che se i veneziani che già si scontra ma si si guarda da mettere mano tutto il campo e fare un ragazzo da forza visto che ha fine a fare i contadini che si ha dato delle carni però già fatto e dare una viste a contadini già si è visto come un attentato a un certo ordine sociale ecco la capacità dei veneziani che era costitutile da riportare tutto a questo mercantino Canova Leone Buro ostia che bravo e portavo a Venezia e si diventavano uno degli scrittori del suo tempo e li apportavano ora alla Repubblica ad esempio divargo un pochettino ma a Venezia si andava in piazza San Marco che si andava un museo archeologico se non aveva idea perché non lo so lì sono tutti vanno acceso a casa e si andava con l'intervista della città e sono dei raccolti più grandi più belle in Italia dell'antichità greca e latina e c'è anche una statua un colosso che già era a casa di un'obbie Santa Maria Formosa che siccome era già in debita decide un giorno di venderla solo che la compra un'obbie che non si è di Venezia non si è neanche adestato un'obbie estero siccome i veneziani doveva difendere anche il patrimonio suo come se fosse pubblico gli manda semplicemente questa gestoria gli manda semplicemente il comandatore dei Dieci che è un vestito di nero che rappresenta il Consiglio dei Dieci si presenta al nove che fa come se fosse un po' di mese qua visto mai che ho fatto qualcosa che non va bene ah no se vengono qua su per salutare il colosso ma la parte ecco al nove capisce che il colosso non vado a partire e che va via a casa lo tiene e lo finisce nella corta della Repubblica questa mania di avere se vuoi proprio una mania perché portava via un sacco di risorse un sacco di schei questa corsa ha dovuto essere splendida e sfarzosa questa storia che è interessante una festa che viene andata in un passo veneziano sul Canagrando e c'è l'ospite che è un straniero che si mette a bar sul passo veneziano che si sa da bar e il bar insieme a cui è la mujer del parron de casa a un certo punto questo qua è una nuova fatta ma in mente che spacca la coana tutta il pelleva partera una coana che insomma fatta del pelle una roba e il mario si senta in carica che guarda su una mujer che va e si ascia e va vicino e comincia a prestare tutte le pelle perché le spacca le faccia vieta e gli dice prego continui a andare in carica dava il senso del fatto di dire ma tutto che si sa per gli altri una coana di pelle tanto resta a te io lo faccio ma è necessità dimostrare al mondo che venezia zero ricca e zero opulenta non ha nessun fine di essere cosno ha un fine politico è una città talmente ricca è una città talmente ricca che può non capestrare una coana di pelle non è quello che fa niente e mamma che venezia cae nella sua capacità nella sua forza eccetera mamma anche a cae perché ho altre potenze in ansia d'altra parte note un giorno forse faremo un passaggio su questo note quanto l'arsenale di venezia è diventata sempre più bello sempre più piede sempre più mali sempre più volte enormi sempre più navi cae la potenza e cresce l'arsenale tanto che il nostro arsenal è l'unico che c'è l'esternale che ha inglesi che aveva la flotta potente del mondo che ha l'arsenale perché ha fatto tutto del Regno le focce del Tamigi e così fino all'epoca dell'epoca dei basieri e dei navi ha bruciato tutto e non ha mai sentito il bisogno inglesi di fare un arsenal di Piera gli altri una piccola città da un piccolo stato avevano un arsenal con un monumento ma perché quando veniva uno a visitarlo già le sbocciano e via ti sei qui che smorti la fame e questo non c'è niente ti eserci che abbiamo gli altri casa quindi è il fine politico di dimostrare che la città si è ricca si è grassa si è opulenta sarà anche adesso come alla morte perché napoleone domanda ascoltano per gli scherzi che ne serve una favore in Russia dove abbiamo? a Vienna ma tu da fare? rimani i sorsi ma mi hanno? ma se sei morti e fammi i spagnoli e venenze? vivi venenze se avessi che scrigno cosa deve venenze? e di fatto è così se viate e guardi il museo per il mondo qualsiasi museo che ha manco una tea un quadro un libro un qualcosa che la porta via da Venice talmente già eri case piene e ricche che quando ti vedevi un palazzo vedevi la skype a tutti e questo faceva è forza della Repubblica no? ti diravi qualsiasi qualsiasi passo veneziana che era una pinapoteca qualsiasi passo veneziana dove era una biblioteca qualsiasi donna veneziana dove avessi manco 40 perre delle cine se non si sentiva abbastanza no? portava in rovina spesso e mario ma venezia ce l'ha uso 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 perchè il mio museo deve venenze ce l'ha uso che a casa e a casa la venezia e quindi in sostanza le famiglie ce l'ha registrato in realtà proprio da Mugeri quindi qualcosa piassava e fatto dei gondoli che già era cretinata che c'era neile per le peste c'era neile per le pregoe e basta la pregoe non vuole essere né bianca né rossa e poi si inventa per i stupidi che vengono essere che avevano con due neri per peste ma i nuovi veneziani vuol mettere che su loro vuol fare i servizi di riquadri e ma se ne le sparsose però è problema la sparsosità a Venezia per dimostrare perché la Repubblica è potente, ma si fa paura che la gente e il popolo abbiano un minimo di dischiettica. Allora se fai leggi, che ne dite le sentuarie, che ne dite ascoltare, siamo calmi con queste cose, se fai il magistrato, il magistrato è pompe, si chiama pompe per pompa, e però è soluzione completa, il magistrato è solo alle pompe delle donne, perché gli uomini, vabbè, ma i donne mangiavano massa, e al fine il problema, era che i schei si è mi, fa solo lo che voglio mi, perché questo limite di benessere conoscevano, se i schei si è mi e gli spendo come voglio mi, e si preoccupavano molto del governo che non fossero spesi tanti schei, ma per un motivo semplice, perché quando necessitava schei, i nobi già erano obbligati a prestare al Stato, e se gli domandavano i nobi maggior consiglio, tutti gli ad avversari dei miei educati, perché è stato da bisogno, e dopo si fa debito. Quindi i sostanze, molti veneziani non c'erano parole di casa, no? Perché addirittura immobilizzare un capitale per un passo, c'era vista una cretinata, gli schei da investire al commercio. Venezia è una città che ha il 55% delle case che sono proprietà pubblica, ed è l'unica città in Italia, il 55% delle case veneziane sono proprietà di scuole, ex scuole, ospeai, istituzioni caritative, comune, provincia, regione, Stato, perivano, tramite altri versi, ma il 55% delle case sono proprietà dello Stato, o comunque pubblico. perché non c'è neanche concessione veneziana da stare fuori dalla città, no? Dopo tutti vanno a casa a Venezia, l'affitto su 1.000 euro, e la casetta da 60 metri quadri costa 700.000 euro. Però, siccome di tutti i euro, bisogna anche la paga. I veneziani vanno a venire via. I veneziani vanno a venire via. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. apprezzamento per altre serate e auspicaria un ritorno di Cesare con una serata sull'arsenale di Venezia perché io vi spiega tutto sull'arsenale Grazie a tutti Grazie